Buongiorno a tutti, sono Federica Argelli, responsabile editoriale della collana concorsi di Maggioli Editore. Torniamo con un nuovo appuntamento con la rubrica Gazzetta Concorsi, con novità e aggiornamenti concorsuali a cura del professor Giuseppe Cotruvo, esperto di logica e autore Maggioli. Anche questa mattina il professore ci fornirà alcune anticipazioni e novità sui bandi in uscita o appena usciti della gazzetta e risponderà alle domande che sono arrivate alla redazione. Vi ricordo che poi il video sarà disponibile nel nostro canale YouTube. Prima di lasciare la parola al professore rispondo a una domanda che c'è appena giunta riguardo al manuale dei 2700 cancellieri esperti e nella sezione online collegata al libro potete trovare gli aggiornamenti normativi ovviamente a seguito dell'uscita di alcune novità e di nuovi decreti. Per l'utente che ci chiedeva invece informazioni sul libro di inglese per concorsi pubblici, confermo che i quiz di inglese sono tratti da banche dati ufficiali. Ora lascio la parola al professore e vi auguro buon ascolto. Va bene, buongiorno. Allora inizio a parlare e andare un po' a braccio perché stavo completando il file perché sono arrivate nelle ultime ore ulteriori domande quindi stiamo un po' aggiornando in diretta il file quindi mi perdonerete se nei primi secondi non sono proprio lucidissimo nel fornirvi indicazioni visto che sto controllando se ho inserito tutti quanti i quiz che mi avete chiesto. Comunque sia, detto questo, questa era una domanda che mi chiedeva, però questa non so se faccio in tempo a commentarla. Allora sono arrivate un po' di domande. Intanto in merito, io non ho forse la condivisione dello schermo, lo condivido subito. Partiamo anche questa settimana, anche negli ultimi giorni ci sono stati un po' di aggiornamenti, quindi gli aggiornamenti ormai stanno arrivando quasi tutti i giorni e gli ultimi aggiornamenti riguardano ad esempio l'avvio di nuovi concorsi e la questione del tampone. Molti mi hanno il tampone obbligatorio per lo svolgimento delle prove. Molti mi hanno contattato per questo, per chiedermi fino a che punto possa essere legittimo questo provvedimento e se ci sono anche eventualmente degli estremi per dei ricorsi. Allora intanto è vero che ci sono state delle sentenze nelle ultime settimane, ne ricordo una relativa proprio al concorso a cattedra e un'altra di un ente locale credo del Friuli Venezia Giulia eccetera, ci sono le prime sentenze in medito alla illegittimità nell'esclusione di candidati solamente sulla base della temperatura, dei 37 gradi e mezzo. Sul tampone ovviamente la notizia è troppo fresca e troppo recente quindi non sappiamo come andrà a finire la questione del tampone. Quindi delle prime posizioni in merito ci sono, però attenzione molti hanno parlato di annullamento di eventuali prove concorsuali. In realtà non sappiamo ancora se ci sarà un annullamento di prove concorsuali. Cioè nelle sentenze che ci sono state in nessuno dei casi si è arrivati ad un annullamento dei concorsi, almeno di quelle che conosco io, poi magari può anche dare che ci sia qualche situazione che mi sfugge. Però in nessuno dei casi c'è stato un annullamento dei concorsi solamente sulla base dell'esclusione di candidati in merito alla temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo. In queste sentenze per lo più si è detto e si è chiesto alle amministrazioni che hanno bandito le prove concorsuali di stabilire dei turni di prova suppletivi per proprio consentire alle persone che nelle due, tre, quattro settimane precedenti avevano una temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo di potersela comunque giocare in modo tale da preservare il diritto a poter, come dire, concorrere per, insomma, una posizione lavorativa. Quindi non si parla di annullamenti. Lo dico perché molti hanno paventato queste ipotesi. Professore, ma non è che adesso, insomma, con questa questione del tampone saranno annullati tutti quanti i bandi di concorso dove è previsto? Che io sappia, guardate, è una previsione abbastanza remota. Annullare un concorso, io questo lo dico spesso, non è impossibile, ma arrivare ad un annullamento di un concorso è una cosa abbastanza complessa, non è una situazione che si fa così facilmente come qualcuno ha avuto modo di dire e lo dico da un punto di vista storico. Poi dal punto di vista tecnico ci saranno gli avvocati che potranno esprimersi più nel dettaglio. Ma proprio da un punto di vista storico, considerando tutti i concorsi degli anni precedenti, ci sono stati concorsi che sono stati salvati anche davanti a situazioni ben più gravi che non la questione dei 37 gradi e mezzo. Quindi comunque li hanno salvati. Immaginate, insomma, se annullano un concorso solamente per questo. Quindi l'orientamento per il momento della magistratura è stato questo. Quando ci sono stati alcuni candidati che sono rimasti esclusi solo per la questione relativa ai vari protocolli di svolgimento delle prove concorsuali, generalmente quando c'è stato un ricorso, generalmente il giudice ha assunto questo orientamento, cioè ha chiesto all'amministrazione di effettuare un turno di prova suppletivo. Per cui ad oggi, sulla base di queste informazioni, quello che mi sento di dire è di continuare a studiare perché è improbabile che ci sia un annullamento di un concorso, al massimo quanti dovessero risultare esclusi proprio per un tampone risultato positivo o per temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo, c'è la possibilità che poi ci possa essere un notturno di prova suppletivo. Quindi lasciate stare quelli che insomma rincolgono e inondano il web di notizie catastrofiche che poi non si verificano. Fra l'altro, anche questa era una di quelle cose che io vi avevo anticipato, che poi di tempo sta venendo fuori, state vedendo come ci sono dei concorsi che stanno riprendendo proprio ieri, pochi giorni fa, due o tre giorni fa, è venuta fuori anche la notizia del bando di concorso, questo per 406 posti categoria C bandito dall'ASL Roma 1 alcuni mesi fa nel 2020, sono venute fuori le date della prova preselettiva, sono venute fuori sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e quindi la prova preselettiva, per chi ancora non lo sapesse, si terrà a partire dall'8 marzo e quindi tra l'8 e il 18 marzo. E anche in questo, se andate a vedere, loro dicono che quando si terrà la prova preselettiva è necessario presentarsi da soli, senza alcun tipo di bagaglio, la temperatura non deve superare i 37 gradi e mezzo, non ci deve essere tosse, difficoltà risperatorie, eccetera, in più non bisogna presentarsi al concorso se si è in quarantena e poi ancora bisogna presentare all'ingresso della prova concorsuale un riferto di un test antigenico, rapido o molecolare effettuato mediante quelli che chiedevano, va bene anche il serologico, attenzione qui si dice chiaramente effettuato mediante tampone orofaringeo, quindi non lascia tanti spazi dubbi su che tipo di test eseguire, bisogna effettuare il tampone, eseguito presso una struttura pubblica o privata in data non antecedente alle 48 ore dalla data di svolgimento delle prove, poi bisogna indossare la mascherina, eccetera, poi ci sono una serie di altre norme che sono quelle che sono state adottate in tanti altri concorsi, ma anche le precedenti, cioè la questione della temperatura, le difficoltà respiratorie, in realtà non sono delle novità assolute perché sono delle novità, sono delle disposizioni già applicate nei concorsi svolti a partire dal giugno del 2020 in poi, quindi ormai c'è una casistica abbastanza ampia in merito. La novità è proprio l'obbligo del tampone, del riferto del tampone orofaringeo che nei mesi precedenti non era stato richiesto, chiedevano un'autocertificazione, non chiedevano necessariamente il tampone, in questo caso chiederanno anche un tampone. Quindi questo ASD Roma che si è già allineata, diciamo proprio Regione Lazio, che si è allineata alle disposizioni del protocollo approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ma anche altri enti locali lo hanno fatto. Io qualche giorno fa, ieri o avantiieri, ho pubblicato la notizia del Comune di Grosseto che anche ha pubblicato, l'avevo inserito, vediamo qui, forse qui, Comune di Grosseto che dice esattamente, richiama proprio sul sito del Comune di Grosseto il protocollo emanato dal Governo che contiene le misure necessarie, lo sottolineo, contiene le misure necessarie allo svolgimento dei concursi pubblici e previsto che il candidato si debba presentare all'ingresso dell'area concursuale con un riferto concernente il risultato del test antigenico effettuato mediante tampone orofaringeo. Quindi questo lo ribadisco, cioè praticamente tutti quanti si sono allineati in modo pedisseco a quanto previsto dal protocollo approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e che se volete andare a rivedere, volete degli approfondimenti, ho pubblicato su questo una nota sulla mia pagina ufficiale su Controvo Teste Concorsi, scorrete un po' la pagina e troverete proprio una nota su questo protocollo applicato. Quindi le amministrazioni stanno riattivando i concorsi, per il momento si parla di concorsi di enti locali per lo più, oltre che il concorso a cattedra straordinario si parla di concorsi con alcune centinaia di candidati o comunque insomma parliamo di una platea limitata di candidati che partecipano a questi concorsi. Però era quello che si voleva, quindi dal 15 febbraio inizieranno a esserci delle prove concorsuali, il comune di Groseto che ho richiamato inizia proprio il 15 febbraio, reattiva un concorso che credo sia quello per la polizia locale, non vorrei sbagliare ma dovrebbe essere quello per agenti di polizia locale, quindi loro iniziano proprio il 15 febbraio, hanno la preselezione 15-16 e poi credo il 19 o il 20 febbraio e hanno suddiviso tutti quanti i candidati in gruppi da 30 persone, quindi si sono proprio allineati perfettamente alle indicazioni, massimo due torni al giorno, gruppi da 30 persone dislocati però in varie sedi, credo che loro abbiano scelto un cinema, una struttura tipo questo, un centro congresso, un cinema dove svolgere la selezione. Domanda che mi è stata fatta, ma per quanto tempo verranno applicate queste norme? Anche questo io l'ho ribadito più volte, ho detto guardate questo è un provvedimento ponte, solitamente viene usata questa dizione, che cos'è un provvedimento ponte? È una norma transitoria, una norma che serve momentaneamente, non è un provvedimento che resterà valido a vita, è un movimento che è legato alla emergenza sanitaria e in modo particolare alla emergenza delle ultime settimane. Cioè se visto che per poter ripristinare una situazione di quasi normalità, non diciamo completa normalità, ma di quasi normalità, il governo e in realtà il comitato tecnico scientifico ha posto un limite, un parametro. Il parametro è quello dei 50 casi a ogni 100.000 abitanti. Noi adesso in Italia siamo intorno ai 150-200 casi, più o meno poi variano un po', però siamo intorno ai 150-200 casi ogni 100.000 abitanti, quindi siamo ancora molto molto oltre, siamo al triplo-quadruplo dei casi rispetto al parametro posto dal governo. Prima che si possa raggiungere questo parametro, sperando che non ci siano altre varianti che comportino un peggioramento della situazione, comunque si prevede che andranno via ancora alcune settimane. Nel frattempo qual è l'intenzione del governo? L'intenzione palesata dal governo è quella di mettere in sicurezza sia la categoria dei sanitari, considerando anche che questo è importante per l'incolumità stessa dei sanitari, ma anche perché molte persone si sono infettate proprio in strutture sanitarie a causa di personale sanitario. Questa è una di quelle cose su cui non è stata posta proprio tanta attenzione. Ma nei centri, ad esempio nelle residenze per anziani, visto che erano state impedite le visite dei parenti, il virus come è circolato, chi l'ha portato all'interno delle residenze? Evidentemente sono stati lo stesso personale, coloro che lavorano all'interno delle residenze che hanno portato il virus lì e hanno determinato il contagio degli ospiti di quelle strutture, così come anche in alcuni ospedali a volte magari sono stati gli stessi pazienti, ma in tanti altri casi è stato anche il personale sanitario. Quindi comunque la priorità data al personale sanitario ha anche questo obiettivo, cioè quello di rendere più sicure le strutture di accoglienza, siano essi centri per anziani, siano essi ospedali o altri presidi sanitari che sono presenti sul territorio, oltre che come forma di incolumità della loro salute, della salute dello stesso personale sanitario. Da questo punto di vista pare che siamo ormai intorno al 100%, quindi la vaccinazione del personale sanitario dovrebbe essere quasi del tutto conclusa, nelle prossime settimane ci sarà poi quella delle fasce della popolazione maggiormente al rischio, in modo particolare degli ultracottantenni. Perché faccio riferimento a questo? Perché per consentire un allentamento importante delle misure restrittive, l'obiettivo che si vuole perseguire sostanzialmente è questo, quindi vaccinare tutte le persone al rischio, in modo particolare degli ultracottantenni, e oltre che completare la vaccinazione del personale sanitario. Qual è l'obiettivo di questo? Già solo vaccinare queste fasce consentirebbe di abbattere molto il numero dei morti che c'è ogni giorno. Adesso siamo intorno ai 300, 400, 500 vittime al giorno, abbiamo superato le 90 vittime nell'arco di questi mesi, questi provvedimenti, di queste oltre 90.000 vittime, si è visto che oltre il 60% sono tutte quante persone anziane. Per persone anziane si intende tutte persone, tutte, oltre il 60% sono persone che hanno oltre gli 80 anni. Ecco perché l'obiettivo primario adesso, il primo obiettivo da perseguire, prima poi di allentare in modo importante le restrizioni, è proprio raggiungere questo tipo di target vaccinale, cioè tutto il personale sanitario, tutte le persone anziane, diciamo tutte le categorie più al rischio. Quando questo accadrà, non lo sappiamo con esattezza, le previsioni sono che si possa riuscire a raggiungere questi obiettivi già per fine marzo e inizio aprile. Quindi diciamo da aprile in poi la situazione dovrebbe iniziare a migliorare in modo più importante, non tanto e non solo per anche poi la bella stagione, la primavera che inizierà e quindi le temperature che saranno più miti e questo abbiamo ormai visto e si è visto a livello internazionale che è uno buon alleato per combattere il coronavirus, ma proprio anche per la campagna vaccinale che avrà raggiunto il primo step e avrà concluso il primo step. Quindi perché ho fornito queste indicazioni? Per rispondere poi a tutte quelle domande che sono giunte, sono tantissime che mi chiedono ma quando sono previste le prove di concorsi più importanti, cioè più importanti nel senso di concorsi con un maggior numero di candidati? Quando ho fornito nelle settimane scorse l'indicazione della primavera era una di quelle indicazioni che è stata fornita anche solo a base delle considerazioni che ho appena formulato. Quindi bisogna intanto attendere proprio la conclusione di queste prime fasi della campagna vaccinale e se si riuscirà a raggiungere gli obiettivi che ho elencato in precedenza, da dopo Pasqua potranno essere alentate in modo più importante le restrizioni e quindi poi di conseguenza anche per le prove concorsuali di concorsi a livello nazionale potranno ripetere. Adesso certezze non ve le darà nessuno, è inutile che chiedete certezze perché nessuno ce le ha. Fra l'altro non sappiamo nemmeno il nuovo governo quale tipo di orientamento voglia prendere, per cui rincorrere delle notizie in questo momento significa rincorrere delle ipotesi e le ipotesi in quanto tali non sappiamo poi se saranno confermate o meno. Qualcosa sarà confermata, qualcos'altro no. Quindi l'unica cosa che abbiamo, l'unico elemento che ci può indurre a delle riflessioni è questo, è l'orientamento, il lavoro che era stato già impostato e poi magari la settimana prossima, tra due settimane, avremo modo di aggiornarci e vedremo anche il nuovo governo cosa dirà in merito, soprattutto il nuovo ministro, il ministro che verrà scelto come al dipartimento della funzione pubblica, quale esponente del dipartimento della funzione pubblica, vedremo quale tipo di orientamento vorrà assumere. Però verosimilmente io non mi aspetto dei grandi cambiamenti rispetto al lavoro che era stato già impostato, quindi per il momento secondo me si andrà avanti così. Sintesi di tutto questo, quindi per il momento partono i concorsi, ma i concorsi quelli con meno candidati e vi ho parlato del concorso del Comune di Grosseto, già il 15 febbraio parte, concorso a cattedra, dopo metà febbraio verranno concluse le selezioni del concorso a cattedra, ASL Roma e ci sono altre amministrazioni che stanno facendo uscire comunque sia ai calendari. Tutti questi concorsi che si svolgeranno tra febbraio e marzo devono attenersi per il momento al protocollo pubblicato qualche giorno fa, tutti. Poi quello che accadrà dopo marzo lo vedremo, lo sapremo meglio. Io mi aspetto che ad esempio il vincolo, quello relativo al tampone scomparirà, ma anche il vincolo, quello relativo alle sessioni da 30 persone poi saranno superati. Ma prima che si possano superare, ritengo che sia difficile, è improbabile che questo accada in tempi troppo stretti, troppo rapidi. C'è qualcuno che dice che già dopo il 5 marzo accadrà e quindi bisogna aspettare il nuovo DPCM, secondo me è più probabile che accada comunque dopo aprile. Ma anche se dovessero eliminare subito le restrizioni, prima che partano le selezioni, quelle a livello nazionale, quelle importanti tipo concorsi come prefettura, magistratura, ACI, molti mi stanno chiedendo ACI, eccetera, prima di aprile inoltrato, ma da maggio in poi il periodo più probabile in cui gli orientamenti dicono che possano partire le grandi selezioni è proprio il periodo maggio-giugno. Quindi preparatevi per questo periodo. Prima di maggio non è impossibile che qualcosa accada, ma è improbabile. È improbabile, almeno per i concorsi quelli che attendete con maggiore ansia, con maggiore enfasi. E in merito a sempre questo discorso delle prove, qualche giorno fa io ho pubblicato la notizia relativa al concorso per avvocati INPS, che è un concorso dove sono arrivate alcune migliaia di domande, per quanto i posti erano pochini, 15 posti, ma sono arrivate alcune migliaia di domande. Ho indicato che sono arrivate, in merito al bando di gara, ci sono tre società che è possibile che si possano poi, la scelta è tra tre società, la scelta dell'azienda che poi andrà a redigere i quiz e che quindi si occuperà poi formalmente, materialmente, dello svolgimento delle prime fasi del concorso, in modo particolare della preselezione delle prove scritte, la scelta ormai è stata limitata a tre società. Non c'è la merito, lo sottolineo. La merito era stata scelta per il concorso per il 165 informatici INPS. Qual è la merito? La merito, per essere più chiaro, è l'azienda che gestisce il concorso dell'Agenzia delle Entrate o gli ultimi concorsi dell'Agenzia delle Dorane e rispondo subito ad una domanda che mi è stata fatta. Non sappiamo ancora, non vi soddare nel dettaglio ancora indicazioni su chi gestirà i prossimi concorsi, i concorsi quelli complessivamente per 1200 posti dell'Agenzia delle Dorane. E ne ancora abbiamo delle indicazioni precise sul quando potranno essere svolti. Ho provato a interessarmi, a meno che non abbiano come dire, secretato i documenti o che non, a meno che ci sia un ritardo proprio nella pubblicazione degli atti ufficiali, ad oggi credo che non ci sia ancora un bando di gara ufficiale proprio sulla gestione dei nuovi concorsi dell'Agenzia delle Dorane. O, lo sottolineo, può anche darsi che sia io che non sia riuscito a trovarlo. Io non l'ho trovato. Se non è stato pubblicato come sospetto che non sia stato pubblicato, vuol dire che insomma prima che parta il concorso ufficialmente, i due profili del concorso dell'Agenzia delle Dorane, quello per diplomati e quello per laureati, andranno via almeno due mesi. Quindi siamo a febbraio, due mesi significa comunque dopo Pasqua. Io non mi aspetterei nulla sulla base delle informazioni attuali, non mi aspetterei nulla prima del mese di aprile. Questo lo dicono i tanti che mi hanno parlato di questo concorso dell'Agenzia delle Dorane. Non conosciamo né quale sarà l'azienda che gestirà il concorso, né conosciamo quando sarà svolto il concorso. Comunque, ancora una volta, in termini di preparazione, considerate proprio quello che vi ho detto. Ad oggi no, mancano, mancano, cioè manca l'ufficialità su dati ufficiali, quali ad esempio il bando di gara, che è fondamentale prima di poter poi pubblicare la data del concorso e le modalità, quelle un po' più specifiche, le modalità di svolgimento del concorso. Quindi ritengo che stia prevalendo per il momento una linea di attesa, prima di capire poi come si orienterà il governo e poi dopodiché anche l'Agenzia delle Dorane deciderà come svolgere i nuovi concorsi. Intanto stanno portando a compimento, a conclusione, i concorsi precedenti, quelli ad esempio che erano stati pubblicati dalla sede regionale della Liguria, Liguria, De Monte e Valle d'Aossa, quindi due profili per 20 e 40 posti. C'è stato proprio uno dei miei concorsisti che nei giorni scorzi ha sostenuto l'orale del profilo quello per 40 posti, quindi le precedenti procedure le stanno portando a compimento. Sulle nuove ancora non sappiamo nulla ed è possibile, per come sta andando la cosa, è possibile che prima di maggio-giugno, certamente non prima di aprile, ma è possibile che anche prima di maggio-giugno non ci sia nulla. Ritorno al concorso 15 avvocati. La selezione per chi gestirà la prova è distretta a tre aziende e tra pochi giorni, io speravo già oggi di potervi dare indicazioni, non ce le ho oggi, le indicazioni da darvi probabilmente ve le fornirò la settimana prossima, la scelta è limitata, non c'è la merito, ma è limitata a Selexi. Ales, che è l'azienda di cui vi ho parlato la settimana scorsa, quella che gestirà i concorsi del Ministero del Ministro della Giustizia in merito a dirigenti penitenziari e a funzionari giuridico-pedagogici, è un'azienda lucana che ha gestito alcuni concorsi locali in Puglia e in Basilicata, ad esempio l'azienda che dovrebbe gestire i concorsi dell'AIPA Puglia, cioè i centri per l'impiego della regione Puglia. Quindi la scelta è tra queste tre. Altra domanda che mi è stata posta su questo concorso, quando è previsto lo svolgimento delle prove? Questo è un dato ufficiale che possiamo trarre proprio dai documenti dell'Inps e nei documenti dell'Inps, in modo particolare i documenti per individuare una struttura dove svolgere il concorso, si parla di un concorso che si chiede se possa essere gestito a Roma. Lo leggete in questo punto dove c'è scritto progetto dell'appalto. L'appalto attiene al servizio di locazione temporanea di locali arredati e attrezzati situati nel territorio comunale di Roma, quindi non si parla di delocalizzazione di un concorso gestito in più sedi regionali, nei piti A, nei poli territoriali per le assunzioni voluti e inseriti nella legge di bilancio di cui ancora non si sa nulla e chissà quando si saverà qualcosa, i 150 centri voluti fortemente dal Ministro D'Adone e dalla precedente maggioranza. Ad oggi non sappiamo nulla se e quando saranno realizzati i PTA. Mentre per questo concorso si parla del territorio comunale di Roma, quindi concorso centralizzato e il suddetto concorso va bene e poi qui c'erano delle indicazioni sulle modalità di esecuzione. Il servizio attiene la messa a disposizione di aule per lo svolgimento delle prove concorsuali che potranno tenersi nei mesi da gennaio a settembre 2021. Quindi la finestra temporale che è stata richiesta dall'Inps è questa, gennaio-settembre 2021, poi adesso non ricordo dove, ma ho letto anche più nello specifico. Per la prova preselettiva si indicava il periodo gennaio-luglio 2021, quindi in questa finestra temporale e poi gennaio-settembre invece veniva estesa la finestra in merito anche alle prove scritte. Quindi questa è l'unica indicazione ufficiale che noi abbiamo al momento sullo svolgimento di questo concorso. So che è vaga, però più di tanto non vi posso dire perché non ho altre fonti, queste sono le uniche fonti e quindi sarà anche qui. Non aspettatevi delle comunicazioni, per che ne so, marzo. Io a questo punto mi aspetto un po' più in là nel tempo, si prenderanno un po' più di tempo, quindi verosimilmente anche questo sarà un concorso che poi inizierà, debutterà, penso dopo Pasqua, non prima di Pasqua, considerando che poi sarà tutto quanto localizzato a Roma, quindi si svolgerà in un'unica sede, quindi realizzare e selezionare migliaia di persone in un'unica sede, dovendo prestare attenzione all'attuale normativa, cioè dovendo dividere i candidati in 30 persone, rischia di essere troppo laborioso come procedimento, quindi è più probabile che comunque si prendano un po' più di tempo e aspettino che ci sia un allentamento delle restrizioni. Quindi questo è il motivo per cui io me lo aspetterei per aprile-maggio, non prima di aprile-maggio. Comunque poi appena avremo delle indicazioni più precise anche su questo ve le fornirò. Domanda su questo concorso e in generale sui concorsi INPS, anche il prossimo per funzionari, i 1800 funzionari di cui si attende la pubblicazione del bando, se ci saranno banche dati, questa è una domanda che mi chiedete sempre, ma io sempre vi devo ripetere che non l'INPS negli ultimi concorsi non l'ha mai pubblicato alla banca dati. Poi se lo farà in futuro vedremo ma né nel bando è indicato nulla, né ci sono delle comunicazioni ufficiali dell'ente, né nella tradizione degli ultimi concorsi è stata pubblicata dalla banca dati. E quindi penso di aver fornito delle indicazioni anche su questi aspetti. Poi andiamo a un po' di domande e di commenti che ci sono arrivati. Allora, tra questi commenti si diceva, intanto oggi in realtà c'erano più queste notizie, proprio quelle sull'avvio di nuovi concorsi, vi dicevo che Rosseto, ASL Roma, eccetera, mentre la gazzetta ufficiale di ieri in realtà non aveva delle informazioni eclatanti. Sì, hanno bandito qualche nuovo concorso, ma sono per lo più concorsi di università, enti locali per pochi posti, per uno, due, tre posti. Quindi diciamo che la gazzetta di ieri non è stata foriera di tante notizie. Vedremo adesso venerdì cosa accadrà, però insomma ci sta. E questo non dipende, domanda così rispondo anche subito a questa domanda, questo non dipende dalla questione politica, insomma è slegato dalla questione politica. Molti temono che l'attuale transizione politica possa in qualche modo ostacolare lo svolgimento dei concorsi. L'ho già sottolineato la volta scorsa, lo ribadisco oggi, bisogna scindere i due piani, il piano politico dal piano più prettamente burocratico e amministrativo. Quello che può accadere in virtù della transizione politica è che ci possa essere un rallentamento delle nuove procedure, quelle che devono essere ancora bandite e che magari attendono il vaglio e l'ok da parte anche di strutture politiche. Altre procedure, quelle che sono state già bandite, già finanziate, si è visto che ci sono tutte le coperture contabili, amministrative, burocratiche eccetera, quelle adesso per quelle si è passate al livello successivo, quindi non c'è più il livello, non siamo più a livello diciamo politico ma siamo a livello amministrativo e lì è più proprio una questione competenza dell'organo amministrativo portare avanti quelle procedure. Quindi per quelle dove siamo già a un livello avanzato, in realtà la transizione politica conterà relativamente se non è possibile non abbia proprio alcun tipo di effetto e andranno avanti tranquillamente. Le procedure che devono essere ancora bandite, ad esempio i nuovi concorsi del Ministero della Giustizia di cui qualcuno mi parlava, non faccio riferimento a cancellieri, direttori eccetera, ci saranno i nuovi concorsi, quelli gestiti con procedure normali, tipo un nuovo concorso per assistenti giudiziari e così di questo tipo che però richiederanno alcuni mesi. Per queste procedure bisognerà vedere il nuovo ministro quando e come si orienterà e quindi può darsi che ci voglia un po' di tempo. E quindi ho dato anche questo tipo di indicazione, messaggio che mi è arrivato. Mi dicono, buonasera professore, ho appena finito di consultare il suo libro Quiz di Logica Ribam 2020, 800 video lezioni di logica, edito da Maggioli, l'ho trovato completo, grazie, esaustivo, troppo buona e con una disposizione delle tecniche di risoluzione dei vari quiz chiara ed efficace. Mi piace molto, grazie. Lei è molto gentile, adesso non ricordo che mi ha scritto questo messaggio, però grazie davvero per il riscontro. Mi dice anche l'eterogeneità degli argomenti trattati e l'accuratezza nel declinare i vari passaggi all'interno dei metodi risolutivi presenti in questo volume non l'ho riscontrato in altri testi. Grazie anche per questo riscontro comparativo tra il volume che abbiamo realizzato maggiori e volumi realizzati da altri. L'altro giorno mi sono imbattuto in un forum in cui si parlava dei nuovi quiz di stampo anglosassone commissionati dall'azienda AUN e che faranno il loro ingresso ufficiale nelle prese elettive dei concorsi liquidati e al momento sono ancora ignote a causa dell'attuale momento critico. Abbiamo detto che la volta scorsa c'è questo nuovo orientamento del forum, quindi ad riavviare le procedure concorsuali che gli sono state affidate a partire da maggio. Quindi non è ancora del tutto ignoto, però aspettatevi le prove Formez già tra maggio e giugno. Questo vuol dire che i quiz logico-matematici, numerici eccetera, presenti anche in diverse banche dati, divergono dei nuovi? Assolutamente, perché non si tratta di quiz inediti. I nuovi quiz che sono stati commissionati era proprio scritto che dovevano essere quiz inediti. Quindi quiz inediti non significa quiz completamente diversi, significa che è possibile che ci siano dei quiz che assomiglino a quelli che circolano in banche dati, su simulatori online di varie aziende, ma non saranno identici. Certamente non saranno identici, cioè certamente ci saranno dei dati anche modificati, non ci sarà 27, ci sarà 25, magari la stessa traccia con alcune modifiche. Però in realtà in questo caso io mi aspetterei anche quiz con una formulazione leggermente diversa, visto che si parla proprio di un'azienda diversa rispetto a quelle a cui si era affilato il Formez nei precedenti anni. Questo lo ribadisco, un altro aspetto su cui sono già intervenuto, ma mi piace sottolinearlo perché ancora molti non lo hanno capito. L'orientamento del Formez, che poi è quello più giusto, perché poi è quello che viene adottato anche nei sistemi più maturi, nei sistemi selettivi più maturi a livello mondiale, è quello di cercare sempre di modificare i quiz, perché l'obiettivo dei quiz di logica non è quello di imparare la memoria. Questo lo dico a tutte quelle persone che mi dicono se c'è la banca dati. Quando mi chiedete se c'è la banca dati, questa è la domanda che mi viene posta da quelle persone che hanno come approccio allo studio un approccio mnemonico, perché loro sanno che sono molto brave nell'imparare la memoria e quindi se c'è la banca dati per loro un vantaggio. Senza la banca dati per loro diventa un problema. Anche se questo poi è relativo, perché guardate dipende molto da come è impostata la banca dati, quindi sapere se ci sia o meno la banca dati non è detto che sia un vantaggio. Comunque sia, chi mi chiede, chi mi forgono a questa domanda è proprio chiaro e palese che ha questo approccio mnemonico nello studio, nell'affrontare una serie di situazioni. Ma questo può avere più un senso per discipline classiche, quali il diritto amministrativo, il diritto costituzionale, eccetera, che sono discipline che si basano molto proprio sull'acquisizione di dati, oltre che poi sul ragionare sui singoli dati acquisiti. Ma c'è proprio questo primo step che è legato all'acquisizione di centinaia, di migliaia di dati. Quindi in queste selezioni può anche avere un senso la banca dati. Quando ci sono delle prove di logica, la banca dati ha molto meno senso, perché la prova di logica viene posta proprio per valutare l'attitudine del candidato al ragionamento. E l'attitudine del candidato al ragionamento non è legata alla memoria o non è legata esclusivamente alla memoria. Quindi l'orientamento che ha assunto il Formez, che è quello che dicevo è adottato a livello internazionale, è proprio questo, è quello a modificare continuamente la struttura dei quiz di logica, proprio perché in questo modo si asseconda l'obiettivo che si vuole perseguire assegnando quiz di logica, altrimenti diventa inutile assegnarli. Cioè i quiz di logica non vengono assegnati perché sono una prova per valutare le capacità mnemoniche del candidato. Per quello ci sono già altre tipologie di prove, ci sono già altre tipologie di quiz, tipo i quiz di diritto. I quiz di logica vengono assegnati per perseguire delle finalità differenti. In questo senso e in questa direzione c'era già stata nel 2017 o 2016, non vorrei adesso dire una fesseria, comunque era il Ministro Maghia che aveva pubblicato una circolare parlando proprio di questo orientamento nuovo del Formez che poi è diventato via via più caro e più evidente a partire dal 2018, tra il 2018 e il 2019. Le ultime banche dati che ha pubblicato il Formez risalgono al 2018 se non sbaglio ed erano il concorso del MIT, quello del Ministero delle Infrastrutture e il concorso delle MAECI. Cioè in quei concorsi c'erano delle banche dati. Dopodiché praticamente il Formez poi non ha più pubblicato le banche già allora erano comunque in atto una serie di cambiamenti e poi dopo di che insomma non sono state più pubblicate le banche dati proprio perché è stato dato atto a questo nuovo filone che è quello proprio di modificare sempre i quiz di logica per assecondare proprio la finalità principua del quiz di logica. Quindi questo lo dicevo perché? Perché proprio per farvi ripire che quando mi dite se saranno cambiati i quiz, ma dicevo sì assolutamente sì e cioè quello è il senso di cambiare azienda perché cambiando azienda si hanno comunque degli autori differenti, avendo autori differenti diventa anche più facile avere dei quiz che sono strutturati in modo differente. Quindi l'orientamento è questo tanto che poi oltre i quiz a uno nel frattempo il Formez sta procedendo con l'acquisizione di ulteriori migliaia di quiz nuovi che saranno acquisiti da un'altra azienda ancora, adesso non sapremo quale sarà la nuova azienda da cui saranno acquisiti gli altri quiz, ma proprio nell'ottica di continuare in questo processo di cambiamento di quiz, quindi non più prove sempre con gli stessi quiz come era accaduto nel periodo precedente al 2018 dove per tanti anni venivano assegnati sempre i quiz quelli il numerico deduttivo, cioè quelli con le griglie con il più il meno, sempre le tabelle, sempre i brani, sempre le sequenze numeriche, cioè c'erano sempre quelle 6-7 tipologie di quiz che venivano assegnate in tutti i concorsi e il Formez lo ha fatto per alcuni anni. Quindi quel tipo di approccio ormai è stato superato e il nuovo approccio, la nuova frontiera ed è anche l'aspetto che poi risulta antipatico a tanti che rende per tanti difficile affrontare i quiz di Formez è proprio questa frontiera di andare più sul ragionamento più che sull'acquisizione, sulla mera acquisizione di dati. Quindi quando mi chiedete ma perché i concorsi Formez risultano più difficili a volte di altri concorsi è proprio perché magari ci sono stati dei concorsi in cui per la banca dati o perché hanno riciclato quiz usati in altri contesti, chi si è esercitato anche solamente con dei simulatori online o con le banche dati che sono state pubblicate, alcuni sono riusciti ad ottenere dei risultati o comunque sono riusciti ad ottenere risultati più positivi di quanto non avrebbero fatto in altre circostanze. Nei concorsi Formez non essendo banche dati e visto che stanno procedendo via di volta in volta a modificare i quiz che assegnano diventa più sterile il mero esercizio con le banche dati che circolano, con i simulatori eccetera. Quindi chi si è affidato solo a quel tipo di preparazione ovviamente poi è risultato fallimentare e ha raccolto le briciole durante lo svolgimento delle prove concorsuali. Quindi e chiudo anche su questo aspetto, tutti quelli che devono preparare concorsi che saranno gestiti dal Formez, che sia funzionari giudiziari, INA, il 2133 funzionari eccetera, ricordatevi di questo, oppure i nuovi che poi saranno quello della regione Puglia, la regione Sicilia, SNA, non fatemeli dire tutti, ormai tanto sapete insomma quali sono i concorsi gestiti dal Formez, considerate che c'è questo tipo di orientamento ed è un orientamento a cui pian piano andrà avanti, si avvicinerà un po' tutto il sistema selettivo, perché ripeto a livello internazionale si fa così e noi come Italia ci stiamo avvicinando allo standard internazionale. Il motivo per cui l'Adadone ha voluto inserire i quiz situazionali in realtà, per quanto secondo me comunque continua a restare uno sbaglio, uno sbaglio di visione, uno sbaglio strategico, però è un mio punto di vista, poi insomma non è detto che debba essere condiviso, però l'Adadone non ha fatto altro che fare un ulteriore passo avanti rispetto a quanto al processo che era stato già avviato dalla Madia, poi portato avanti dalla Buongiorno e l'Adadone ha voluto fare questo ulteriore passaggio in avanti, passo in avanti rispetto dalle esperienze concorsuali che avvengono all'estero, dove oltre alla logica, oltre ai quiz tecnici, spesso vengono assegnati, guardate chi ha preparato i concorsi della comunità europea lo sa, vengono assegnate anche altre prove, ad esempio le prove con i quiz situazionali. La Dadone ha detto ma perché non lo facciamo anche in Italia questa cosa, visto che la fanno all'estero dove sono molto più avanti di noi, perché non lo facciamo anche noi in Italia? Ecco, probabilmente la Dadone non sa che in Italia comunque la questione delle soft skill poi in realtà è una situazione che viene comunque valutata durante i primi mesi di assunzione perché sono comunque mesi di prova e quindi lo si è voluto valutare, si vogliono valutare le capacità relazionali, le soft skill del candidato proprio vedendoli sul posto di lavoro, vedendo come reagiscono alle varie sollecitazioni, quindi proprio in una situazione concreta, non con dei test che hanno l'obiettivo di dare delle indicazioni in termini però non di certezza, ma delle indicazioni in termini di probabilità, poi con indici di probabilità molto alti, ma non sono elementi di certezza. Nel sistema italiano secondo me una volta tanto forse in questo siamo più avanti noi rispetto ad altre esperienze all'estero, quantomeno nel pubblico perché poi nel privato potrebbe avere anche un senso, ma nel pubblico no, perché nel pubblico è previsto questa finestra di prova di alcuni mesi che c'è proprio dopo l'assunzione o addirittura ci sono esperienze concorsuali come quella dell'agenzia delle entrate o anche l'esperienza che sta portando avanti, che si sta portando avanti con il Formez, con il corso concorso della regione campagna dove una delle fasi proprio della selezione è il tirocinio, quindi oltre alla prova presolettiva, le prove scritte, l'orale eccetera, è stato inserito nel canovaccio delle prove concorsuali il tirocinio, il tirocinio serve proprio a quello, cioè a valutare le soft skill, le capacità relazionali, tutte quelle capacità che concorrono poi a far sì che un candidato possa risultare un buon lavoratore, un buon componente, un buon ingranaggio, è brutto dirlo ma è così poi di fatto, un buon ingranaggio della macchina amministrativa. Per cui per rispondere a questa persona che mi diceva se bisogna aspettarsi nuovi quiz, non è tanto il fatto dello stampo anglosassone, non è tanto questa la cosa importante, ma proprio quiz che possano risultare differenti in termini di impostazione rispetto ad altri quiz assegnati in passato, la risposta è sì, dovete aspettarvi dei quiz, quiz magari non completamente diversi, ma quiz che possano risultare differenti rispetto al passato, quindi questo è assolutamente vero e le qui date non è, vabbè, questo vuol dire che i quiz logico presenti nelle banche dati divergono dei nuovi, ho detto di sì e in caso affermativo potrebbe indicarmi un suo testo aggiornato, non c'è un testo aggiornato su questo, probabilmente ci sarà in futuro, abbiamo deciso come redazione di aspettare a pubblicare dei volumi e quindi io vi ribelisco qual è stato il mio orientamento, per il momento io tutti gli aggiornamenti concorsionali li sto fornendo all'interno dei miei corsi in presenza, chi me lo chiede sono già partiti, adesso andrò avanti con un ciclo di videoconferenze, ogni mercoledì sera si tengono queste videoconferenze e nelle videoconferenze sto mostrando proprio l'aggiornamento che è in atto di tutte le banche dati concorsuali, non solo quelle del Formex, anche nei concorsi Selexi sono stati introdotti dei nuovi quiz, ad esempio, se mi concedete un secondo vi mostro anche una delle nuove banche dati, uno dei nuovi quiz della Selexi su cui ho riflettuto perché ci sono state delle persone che mi hanno segnalato un elemento problematico e mi hanno detto che avevano avuto delle difficoltà, se qui 70 amministrativi probabilmente, vediamo se è quella giusta, no, va bene, ve la mostrerò eventualmente la prossima volta così non perdiamo tempo, però era per farvi vedere come ci sono stati dei cambiamenti anche proprio nei quiz assegnati anche da altre aziende, quindi il problema ormai non è più un problema della, come dire, del Formex, perché molti pensano che sia solamente il Formex in termini di problema, in realtà è un problema decisamente più ampio perché stanno assegnando anche tipologie di quiz che in passato non avevano assegnato, no, non c'è nemmeno qui e allora forse che il concorso per dirigenti perché mi piaceva proprio mostrarvelo considerando che molti poi mi hanno detto che hanno avuto difficoltà, ma la difficoltà era proprio legata a questo aspetto vabbè, non lo trovo, poi lo, ah no, no, era qui, era qui, adesso mi è venuto in mente, perdonatemi, era qui, era una di queste due, questa qui forse ho proprio cannato, non l'ho trovata nemmeno qui, la troverò poi, ve la mostrerò la prossima volta perché comunque adesso siamo in fase di aggiornamento dalle banche dati, quindi tra tanti quiz poi non riesco a ricordare sempre tutto quanto, quindi vi dicevo, il problema dell'aggiornamento dei quiz, iniziate a entrare in quest'ordine di idee, è un problema che sta riguardando tutte quante le banche dati, lo dico per chi ad esempio deve preparare il concorso dell'agenzia delle entrate, vi mostro come, quello è un concorso gestito dall'azienda Merito, per mostrarvi, guardate queste tipologie di quiz, ad esempio, questi sono quiz Merito, assegnati recentemente nei concorsi che l'agenzia delle dogane sta portando a compimento, quiz come questo qui, il numero 5, questa è una tipologia di quiz che in passato l'agenzia delle entrate generalmente non ha dato quiz con i grafici, però la Merito li sta assegnando, ha assegnato quiz con i grafici in alcuni concorsi recenti, lo ha fatto nel bando del 2017 dell'Inps, lo ha fatto in concorsi MEF, lo sta facendo nell'agenzia delle dogane, quindi una delle possibili novità dei prossimi concorsi dell'agenzia delle entrate potrebbero essere questi quiz con i grafici, guardate, quiz con disegni particolari, con le pedine come questo, il numero 10, eccetera, cioè stanno via via aggiornando le banche dati con tipologie di domande, ve ne mostro anche un'altra particolare, questa qui, con tipologie di domande che in passato non venivano assegnate, ad esempio, questo quiz con i numeri l'agenzia delle entrate è da anni che assegnano alle proprie prove concorsuali, quiz di ragionamento numerico deduttivo con numeri che sono all'interno di disegni, però ad esempio un quiz impostato in questo modo, per chi ha già svolto tutte le prove del 2018, del 2015, eccetera, ricorderà che non è mai stato assegnato una domanda del genere, eppure la Merito le sta dando, le sta assegnando in una serie di nuove prove concorsuali, e qui molti hanno avuto difficoltà perché hanno avuto difficoltà a capire che il rapporto tra i numeri in questa sequenza è un rapporto legato alla posizione dei numeri, ovvero tutti i numeri in alto a sinistra, cioè il 9, il 7, il 16 e il 23, che rapporto hanno? Il rapporto è quello della sequenza di Fibonacci, ovvero la somma di 9 più 7 da 16, così come la somma di 7 più 16 da 23, quindi bisogna ragionare così, proprio in termini di sequenza di Fibonacci, cioè quella in cui ogni numero è uguale alla somma dei precedenti due, così come, ragionando così, questo vale anche per i numeri in alto a destra, se vedete 12, 5, 17, 22, abbiamo che 12 più 5 da 17 e 5 più 17 da 22, e quindi ragionando in questo modo anche sui numeri che sono in basso, abbiamo che 6 più 13 da 19, e poi evidentemente il numero che manca è quello che si ottiene sommando il numero 13 e il numero 19, che ci danno 31. Ma ancora, poi ci sono queste tipologie di quiz, queste ad esempio sono quiz, quando mi chiedete quiz sul modello anglosassone, in realtà intanto il modello anglosassone è una stronzata, scusatemi se lo dico, perché questa dizione di modello anglosassone non ha un riscontro reale, l'Auno è una multinazionale di quiz e assegna quiz in in vari paesi, qui non si parla di modello anglosassone, chi ha introdotto questa dizione lo ha fatto perché sono alcuni operatori, alcuni addetti lavori che ci sono in Italia che conoscevano solamente alcuni quiz che sono stati realizzati dal Cambridge Assessment, che è un'azienda del Regno Unito, cioè proprio legata alla Università di Cambridge, e che ha realizzato, che ha avuto delle esperienze in Italia, quelle sui test di ammissione a medicina in inglese, per questo si è parlato di test di modello anglosassone, ma non ha alcun riscontro parlare di questo modello, anche perché nel caso dei test di medicina in inglese parliamo comunque di un'azienda, il Cambridge Assessment, che non c'entra nulla con l'Auno, sono aziende diverse, come dire in Italia, Selexi e Merito, sapete che i quiz che dà la Selexi e i quiz che dà la Merito, sono quiz che in qualche caso si assomigliano e in altri casi sono completamente diversi, quindi quando vi parlano di questo modello anglosassone vi stanno prendendo in giro, perché non esiste un modello anglosassone, perdonate, siccome mi hanno contattato un sacco di persone su questo e mi bombardano poi di informazioni, vi stanno prendendo per i fondelli, vi stanno dando delle informazioni legate alla ignoranza che hanno queste persone che non conoscono altre tipologie di quiz, quindi a livello internazionale non esiste questo modello anglosassone che qualcuno evoca, esistono delle aziende, così come in Italia c'è la Scanshare, c'è Selexi, c'è Merito, c'è la CES Selezioni, eccetera, a livello internazionale ce ne sono delle altre, c'è la SHL, c'è Persson, c'è l'Auno, c'è il Cambridge Assessment per alcune prove e soprattutto per alcuni test di ammissione a medicina, ce ne sono tante. L'Auno è una di queste aziende, una delle più importanti a livello mondiale che si occupa di selezione, quindi questo era giusto per fornire delle indicazioni. E dicevo, a livello internazionale, mi è capitato in tante esperienze di concorsi che ho analizzato in altri paesi, Francia, Inghilterra, India, Cina, eccetera, perché insomma con Corea e via discorrendo, mi è capitato di analizzare Canada, ricordo una volta una prova del Canada, ho visto come spesso all'estero vanno anche su queste tipologie di quiz come il numero 3, che per chi non le ha mai viste possono sembrare strane, in realtà sono delle banalità in termini di quiz, cioè questi sono dei quiz in cui si tratta di associare dei disegni, dei grafici più che dei disegni, alle informazioni che sono riportate nella traccia, ad esempio in questo caso si dice quale dei seguenti grafici rappresenta la seguente situazione, impiegati italiani e impiegati inglesi rappresentano insieme il 40%, gli italiani inglesi lo trovate scritto qui nella leggenda, cioè sarebbe X italiani più inglesi Y, quindi X più Y deve essere uguale al 40%, e poi sappiamo che il restante 60% è rappresentato da cinesi e russi, e in modo particolare i cinesi sono il 55%, quindi W, che sono i cinesi, deve essere il 55%, e Z, che sono i russi, Z deve essere il 5%. Ora, dovete avere in questo caso la capacità di associare queste indicazioni numeriche ai grafici che sono presenti. Io ad esempio partirei da questo W, che è il 55%, ricordatevi che nelle percentuali, quando si parla del 50%, si fa riferimento alla metà di un fenomeno, quindi nel caso dei cerchi, dei diagrammi a torta, degli aerogrammi, se vogliamo usare un'indicazione più specifica, 50% significa mezza torta, mezzo cerchio. 55% sarà più di mezzo cerchio, quindi il 3, dove questo W è molto meno di mezzo cerchio, non può essere il 3, perché noi sappiamo che W deve essere più di mezzo cerchio, cioè più del 50%, quindi il 3 lo togliamo. Lo stesso questo 2, dove W è meno della metà della torta, metà della torta sarebbe tutta questa parte qui, ma noi abbiamo visto, vediamo chiaramente che W è meno della metà, vuol dire che nemmeno il 2 può essere. Quindi anche il 2 lo togliamo, mentre l'unico aerogramma dove W rappresenta più della metà del cerchio, vedete, la metà sarebbe tutta questa parte di sopra, mentre qui c'è ancora questo pezzettino, quindi l'unico dove c'è questo discorso è l'aerogramma 1, il grafico, qui usa questo termine, il grafico 1, e quindi chiaramente bisogna scegliere il numero 1. Quindi questo era per mostrarvi come, una domanda che ad alcuni era sembrata particolarmente difficile, in realtà è proprio una domanda legata alla capacità di lettura dei dati e di abbinare, di associare, a volte si fanno gli abbinamenti, noi in Italia, in tanti concorsi hanno assegnato dei quiz in cui bisogna effettuare degli abbinamenti tra termini, ad esempio Roma sta a Italia, come Parigi sta a puntini di sospensione. Quindi qui si tratta comunque di effettuare degli abbinamenti, ma abbinamenti tra dati e immagini e disegni e grafici. Quindi non è un quiz di particolare difficoltà per chi ha un minimo di formazione, ha un minimo di capacità di ragionamento, visto che a volte cose di questo tipo io le ho viste anche applicate a livello scolastico, almeno nei programmi di scuola degli ultimi anni. Quindi su questi alcuni ragazzi sono molto bravi, sono molto rapidi, le difficoltà subentrano soprattutto per chi ha abbandonato la scuola da più tempo e magari non ha mai effettuato esercitazioni di questo tipo. Questo ad esempio vi dicevo è proprio una tipologia di esercizio che ho trovato varie volte in prove concorsuali che hanno assegnato all'estero e che in Italia da meno tempo stanno utilizzando nello svolgimento dei concorsi. La merito ha introdotto nelle sue banche dati anche questa tipologia di quiz. Chi non l'aveva mai visti, almeno parlando con i miei corsisti, ci sono stati alcuni corsisti che hanno detto che per noi sono difficili. Poi dopo che glielo ho spiegato hanno detto no, in effetti sono molto semplici. Perché bisogna avere questa percezione, questa capacità di saper visualizzare le percentuali. Che significa 50%? Quello che vi dicevo prima, 50% significa metà di un fenomeno. 100% significa tutto il fenomeno, 25% significa un quarto del fenomeno. Bisogna saper fare questo tipo di valutazione. Insomma, questo era per mostrarvi come domande come queste. In passato, ad esempio, l'agenzia delle entrate non l'aveva dato, in altri concorsi della merito non erano state date, adesso sono state introdotte anche queste nuove tipologie. Così come, e chiudo per oggi sulle novità concorsuali, poi c'erano dei quiz che mi erano chiesto, non so se torneremo in tempo a vedere tutto quanto, altrimenti la prossima volta proveremo a fare una full immersion sui quiz, anche perché io ho altre novità importanti e me le aspetto più tra due settimane, tra due mercoledì, cioè a fine mese. Tra una settimana, secondo me, saremo ancora in una fase interlocutoria per tanti motivi che adesso non vi sto a dire. Di domande strane che sono capitate negli ultimi mesi, che hanno messo un po' in ambasce una serie di candidati e è successo che in un concorso della regione Lombardia, o meglio, del comune di Milano, spero di beccarlo, hanno dato, hanno assegnato anche delle, vediamo se l'ho beccato, credo proprio di sì, hanno assegnato dei quiz che molti hanno detto, ma che sono queste cose che hanno assegnato? Alcuni erano banalissimi, altri erano questi qui. Il quiz numero 25, ancora una volta per mostrarvi come i quiz stanno cambiando, li stanno modificando, li stanno modificando tutti, tutte le aziende, almeno tutte quelle che sto vedendo, tutte le principali, stanno modificando le loro banche dati. Quindi vi dovete aspettare nei prossimi concorsi nuovi quiz che nei vari simulatori online, non stanno ancora circolando alcune cose, adesso pian piano, da qualche giorno o qualcosia, insomma, sta iniziando a circolare, ma ci sono tante tante novità che in molti volumi mancano del tutto. Ad esempio questo quiz 25, questa era una prova di logica, logica e diritto. Tra le domande non era una prova di matematica, questo è concorso del comune di Milano, celebrato alcuni mesi fa, dove tra le domande di logica hanno introdotto una disequazione. Cioè bisognava risolvere questa disequazione, dove l'asterisco è il per, è l'equivalente del per. Qui non so per quale motivo hanno inserito l'asterisco, solitamente non lo si mette, se non nell'addizione quella un po' più scientifica, quella da calcolatrice. Però evidentemente, insomma, ti l'ha fatto, forse era proprio un informatico che aveva questo tipo di impostazione, ma qui noi a scuola voi trovereste scritto così, meno 4x, dove tra il 4 e l'x si sottintende il per, quindi il pontino, maggiore diremmo di 2. E bisognava risolvere questa disequazione, quindi come si risolvono le disequazioni? Allora, questo meno che c'è davanti al termine con la x, solitamente conviene cambiarlo in più, però quando cambiamo il termine di uno dei monomi che compaiono nella disequazione, bisogna cambiare il segno di tutti quanti. Cioè se io cambio il segno di questo 4x rendendolo positivo, devo cambiare il segno anche del termine che è dall'altra parte, che diventerà meno 2, visto che non aveva nessun segno davanti, quindi si sottintende il più quando non c'è nessun non segno. Dopo aver fatto questo, mi devo ricordare che nelle disequazioni, questo lo si farebbe anche in un'equazione normale, qual è il passo in più rispetto alle equazioni normali? Quando si cambiano i segni, bisogna cambiare anche il verso della disequazione, cioè se qui c'è maggiore, gli devo mettere il verso minore. Quindi questo è l'unico passaggio in più che bisogna conoscere rispetto ad un'equazione. Poi ultimo passaggio che si fa nella risoluzione di un'equazione di primo grado, la stessa cosa dobbiamo fare qui per una disequazione di primo grado, cioè il coefficiente della x, quindi il numero che è davanti alla x, lo portiamo sotto il termine noto, quindi verrà che x è minore di meno 2 fratto 4 e 2 fratto 4 semplificato ci dà un mezzo. Quindi per mostrarvi una ulteriore novità concursuale, ma ce ne sono tante, insomma qui se volessi mostrare a parlare delle novità concursuali non la finiamo più. Di tutte queste novità concursuali è ovvio che pian piano nei volumi poi ci saranno degli aggiornamenti e molti mi chiedevano per l'agenzia delle entrate il volume che consiglio per l'agenzia delle entrate, se lo becco ve lo mostro subito e così vi mostro proprio dove ci sono molti aggiornamenti anche su alcune di queste nuove, non tutto perché poi restare, stare al passo di tutto quanto non lo si può fare con un volume, però questo volume qui, questo è dove trovate, in realtà sono più di 250 le video lezioni, anzi sono un bel po' più di 250 le video lezioni, comunque qui in copertina c'era scritto 250 video lezioni, il titolo è quiz di logica e psicoattitudinali svolti e commentati per tutti i concorsi, quindi è in modo simile al volume realizzato per il Formez, quello a cui faceva riferimento l'utente prima, quello è un volume con una raccolta di prove assegnate in concorsi Formez, però non prove tutte quante uguali, ma avevo fatto una selezione tra tanti tipi di prove. In questo volume ho fatto qualcosa del genere, ci sono una serie, credo ce ne siano 15 o 16 prove, adesso a memoria non ricordo anche perché stiamo portando avanti altri lavori, ci sono 16 prove ufficiali, di tutti i quiz in questo volume ho anche riportato una serie di commenti proprio nel testo e oltre a questo dei quiz di logica poi troverete delle spiegazioni online. In realtà questo non è altro che un aggiornamento del volume che già avevo realizzato nel 2018 per l'Agenzia delle Entrate, però rispetto al volume realizzato per l'Agenzia delle Entrate, in questo volume trovate molto molto più materiale, cioè rispetto a quel volume dove c'era 10 materiali, in questo volume c'è più del doppio, più di 20 come materiale, quindi è un aggiornamento corposissimo. Nel volume del 2018 c'erano una quarantina di videolezioni, qui ce ne sono oltre 250, giusto per darvi delle indicazioni, così come anche come commenti cartacei ce ne sono molti di più rispetto al volume precedente, quindi non è proprio un aggiornamento classico, in realtà proprio è un corposo sviluppo di quel progetto editoriale che insomma comunque era piaciuto già all'epoca molto e adesso insomma via via stiamo andando avanti in questa nuova frontiera di volumi. I volumi intesi come erano intesi in senso classico secondo me sono molti, è la mia sensazione però secondo me sono molti. Oggi i volumi devono diventare degli strumenti per aprire la chiave ad una serie di servizi, quindi un volume come ingresso, come primo step per accedere ai servizi hanno un senso e hanno un futuro. Ecco, questi volumi che noi stiamo realizzando, quello del Formez, questo adesso che poi è lo stesso volume, adesso questa è diciamo la versione generica, poi ci sarà lo stesso volume per l'agenzia delle entrate dove cambieremo solamente la copertina, però avevamo già voglia di metterlo in mercato, ecco perché dico chi preparerà quel concorso può tranquillamente insomma affidarsi a questo volume e vedrete che vi piacerà tanto. Quindi così ho risposto anche l'utente, stavo vedendo nel frattempo che sono arrivate già le 11 e un quarto. Devo scappare, devo scappare perché abbiamo pochissimo tempo e quindi chiudo solamente dando come risposta a questo quiz, devo dire che ha questo messaggio, quindi le novità sui concorsi, su nuovi quiz non dovete aspettarvele solamente in concorsi Formez, ve le dovete aspettare in tutti quanti concorsi, vi ho mostrato proprio prove ufficiali che hanno assegnato recentemente, dove c'erano tante tipologie di quiz differenti, vi ho dato giusto qualche esempio, ma ve ne potrei mostrare decine e quindi questo vale anche per i concorsi Formez e mi sto prendendo un po' più di tempo, ci stiamo prendendo un po' più di tempo con la redazione per un nuovo volume del Formez, proprio perché a differenza di altri quiz che vi ho mostrato dove c'erano proprio delle prove ufficiali e quindi per me è stato anche più facile ad esempio realizzare un volume aggiornato sui quiz assegnati dalla Merito in alcuni concorsi recentemente, per il Formez e questi nuovi quiz sauna in realtà ancora non sono debuttati in situazioni ufficiali, per cui prima generalmente nei volumi a me piace dare proprio le fonti ufficiali, quindi la prova che hanno realmente assegnato in quel contesto oppure il quiz che hanno realmente assegnato in quel contesto, non mi piace inventarmi dei quiz, ritengo che sia molto meglio, cioè a voi non interessa cosa c'è nella testa di Gisopperutru, a voi interessa quello che c'è nella testa di quelli che poi gestiscono effettivamente i concorsi, quindi questo è l'orientamento e questo è il motivo per cui per i Formez stiamo un po' tempo reggiando perché aspettiamo che ci sia qualche prova ufficiale, non è escluso che si possa uscire con un nuovo prodotto anche prima, però poi nelle prossime settimane vi aggiornerò. Intanto tutti questi aggiornamenti concorsuali sono ormai diventati un appuntamento fisso dei miei webinar, sia dei webinar che stiamo realizzando la mattina, sia poi degli appuntamenti che ho riservato ai miei corsisti, quelli che poi seguiranno le lezioni in presenza a maggio e giugno e ogni mercoledì sera i miei corsisti, prima ancora di arrivare alle lezioni in presenza, ci soffermiamo per un paio di ore proprio sui nuovi quiz che stanno venendo fuori e fornisco una serie di indicazioni in modo tale che poi i ragazzi possano arrivare più preparati ad affrontare l'impatto con l'aula, con Giuseppe Cotruvo, che non è spesso un impatto proprio facile perché non sono sempre un personaggio facilmente gestibile. Corsi in cui sarò presente in nuove città differenti, sia al sud che al centro che al nord e le trovate su metodocotruvo.it per chi volesse andarle a vedere, andate a vedere il link Corsi di Logica. Poi c'era Professori, avrei bisogno di alcune posizioni alla prima riguardo al concorso dell'Agenzia delle Togane, ma penso più o meno di aver risposto. Anche lui mi ringrazia per i libri, grazie a voi per i tanti riscontri. Quindi su Agenzia delle Togane ho detto prima che non sappiamo ancora esattamente quando e per il concorso del Comune di Roma verosimilmente si terrà la presa lezione prima della pausa estiva, quindi tra maggio e giugno, maggio e giugno e luglio. In quel periodo poi vedremo meglio come si organizzeranno, però verosimilmente prima della pausa estiva. Di questo avevo già parlato. I concorsi dei centri per l'impiego, qui diversi mi hanno inviato questo messaggio perché ci sono state delle testate che hanno parlato delle 11 mila assunzioni. Io dicevo, guardate, 11 mila assunzioni, sono 11 mila assunzioni complessive, non 11 mila assunzioni di un ente, cioè 11 mila assunzioni complessive nel senso comprendendo anche i bandi di concorso che sono stati già pubblicati. Solo in Puglia ci sono mille posti, quindi un bando di concorso già pubblicato, poi ci sono quelli della regione Campania, poi ci sono una serie di regioni, regione Lazio, che hanno già iniziato, che hanno già bandito i concorsi. Quindi in realtà di nuove assunzioni, cioè di nuovi bandi di concorso sono molti di meno di 11 mila assunzioni. Poi appena ci saranno, adesso l'altro maxi concorso, l'altra grande maxi tranche di assunzioni in questo ambito sarà il bando che pubblicherà la regione Sicilia e che sarà gestito anche dal Formes, almeno queste sono le indicazioni che abbiamo, poi ve le confermerò appena avremo la certezza e quello è un bando che uscirà tra qualche settimana, perché si sta aspettando, perché il Dipartimento della Funzione Pubblica della regione Sicilia sta finendo le procedure per la stabilizzazione di personale precario e per altre procedure di immobilità e poi procederà con la pubblicazione di nuovi bandi di concorso. Poi domanda se il governo, insomma la caduta del governo inciderà sui nuovi percorsi TFA eccetera, questo si inciderà ma di pochi giorni, cioè non aspettatevi un annullamento del, c'è stato chi ha detto ma adesso potrebbero non pubblicare più il sesto ciclo del percorsi per il TFA, no? Io francamente non mi aspetto questo, ormai quelli sono procedimenti che sono partiti. Io piuttosto mi aspetto che ci possa essere un ritardo, ma non tanto legato alla caduta del governo più al fatto che il precedente ciclo era partito con ampio ritardo e quindi per evitare che poi si accavallino troppo le cose, quindi mentre il precedente ciclo più o meno fu bandito tipo a marzo, giù di lì, marzo, aprile, insomma, il nuovo ciclo, il sesto ciclo è possibile che insomma ritardi di alcune settimane rispetto a quanto accaduto lo scorso anno. Quindi questo me lo aspetto ma ripeto più che altro per evitare sovrapposizioni tra corsi che sono partiti con ampio ritardo, quelli del quinto ciclo e gli eventuali nuovi corsi che poi partirebbero con il sesto ciclo. La caduta del governo sullo sul TFA, secondo me inciderà ma davvero molto poco. Sui concorsi della regione Sicilia ho già detto qualcosa, avete visto che c'è questo concorso nuovo dell'ARGS, cioè del Parlamento, dell'Assemblea regionale della Sicilia, il parlamentino che ha la Sicilia, un concorso per quanti hanno la licenza di scuola media ma che si sono licenziati dalla vecchia scuola media, adesso scuola secondaria di primo grado, con il punteggio massimo, quando c'era ottimo con ottimo, quando c'erano i giudizi con i voti con dieci decimi. Queste persone possono partecipare al concorso e i primi 400 poi superano la prova preselettiva. Prova preselettiva che è una prova con una quarantina di domande di logica primale, di logica matematica e poi ci sono dieci domande di inglese. Questo è un concorso che sarà oggetto, ci sarà un volume, in realtà stiamo aggiornando un mio vecchio volume, il formato A4, lo dico per chi non lo avesse, che sarà messo nel mercato, sarà pubblicato tra, credo, entro un paio di settimane, forse anche meno, forse una settimana, dieci giorni, poi eventualmente dopo la responsabile della redazione, la dottoressa Argelli, se volrà interverrà, si ha delle notizie un po' più fresche. Però ci stiamo lavorando, sto realizzando delle nuove video lezioni che saranno legate a questo volume e anche per parlare insomma delle novità concursuali che ci saranno. Quindi per questo volume ci sarà un mio volume, poi ci saranno altri concorsi della regione Sicilia, anche qualche ente locale si sta iniziando a preparare, ma quelli più attesi sono proprio quelli che pubblicherà la regione Sicilia, molti posti saranno per i centri per l'impiego, poi ci saranno anche alcuni posti per lavorare nei ruoli della giunta della regione Sicilia in qualità di assistente, in qualità di funzionario. Però appena ci saranno delle indicazioni un po' più precise, ve le fornisco, intanto vi dico che non perderà tanto quel bando e quelli saranno bandi gestiti dal Formez, almeno così ha dichiarato l'assessore al personale della regione Sicilia. Poi sui quiz per l'amministrazione si sa dirci qualcosa, se si fa riferimento al concorso per i dirigenti penitenziari, ho già detto nella precedente webinar che sarà la Ales a realizzarli, se fate riferimento ad altri concorsi poi datemi una indicazione un po' più precisa perché l'amministrazione penitenziaria è un po' troppo vaga come indicazione. Quindi chi mi ha posto questa domanda poi se gentilmente la riformula. Poi, buongiorno, è verosimile che le prese elettive a tutti i conveni degli enti locali si svolgono prima di maggio? Non. Allora, qui si parla prese elettive a parte i concorsi degli enti locali. Quindi per gli enti locali, lo abbiamo accennato prima, vari enti si stanno preparando per riattivare le procedure concorsuali, però facciamo comunque riferimento ai bandi di concorso più piccoli. La prossima settimana vi do questa anticipazione, vi mostrerò come, questo per rispondere ai tanti catastrofisti che ci sono, in piena pandemia, io se ricordate la scorsa primavera varie volte mi sono scagliato contro quelli che ho definito profitti di sventura, che sono quelli che poi hanno dirottato tante persone, hanno sfiduciato alla fine tante persone e hanno detto no, tanto i concorsi non si ferranno mai. Guardate, io ho proprio dati alla mano, non fantasie, non ipotesi, da giugno fino alla fine del 2020, quindi comunque in piena pandemia sono state assegnate migliaia di posti in enti pubblici, non uno, due, tre, migliaia di posti in enti pubblici e ve lo dimostrerò con batti alla mano la prossima settimana, ve lo farò vedere perché poi ci sono queste persone che si fanno montare la testa, si fanno distrarre dai profitti di sventura, dai catastrofisti e non si rendono conto che il mondo comunque sta andando avanti e molte di queste si sono giocate delle occasioni importanti, vi mostrerò dei documenti che forse sotto alcuni punti di vista potrebbero sembrare anche clamorosi a qualcuno, qualcuno che pensa che magari le cose non sarebbero mai andate avanti, pensava che le cose non sarebbero mai andate avanti. E poi ripeto, come io invece avevo indicato già la scorsa primavera, tante procedure sono andate avanti. In merito ai concorsi nazionali, come mi chiedono in questa situazione, prima di aprile, concorsi nazionali, adesso bisogna vedere che cosa si intenda, però se si intende i concorsi Formez o i concorsi che ne so, IMSS, INAIL, eccetera, agenzie delle entrate, agenzie delle dogane e via discorrendo per questi concorsi, l'ho ribadito, ormai sono settimane che vi sto dicendo, è più probabile e preparatevi per maggio-giugno quando ci sarà l'assembramento concorsuale. È un'edizione che ho usato, forse sono stato il primo in Italia a usarla, proprio per sottolineare come molte amministrazioni già da giorni, già da parecchio si stanno preparando a svolgere queste selezioni proprio nella primavera estate del 2021. Quindi prima di maggio non è impossibile ad oggi, non è impossibile ma diciamo che è improbabile che le grandi selezioni possano partire prima di maggio. Quindi lo stesso vale per coeditori del Senato, è più probabile che si svolga tutto quanto a partire da maggio, poi ci sarà un problema anche nel riperire gli spazi, le strutture dove poterli effettuare. Sull'agenzia delle dogane ho già detto, ho detto che ancora non sappiamo se sarà la merito, probabilmente sarà la merito, però la certezza assoluta non ve la sono ancora a fornire, appena avrò letto il documento ufficiale ve lo mostrerò. Nelle prossime settimane è possibile trattare l'argomento dei concorsi per dirigenti, comparto regioni, autonomia e non ci sono neanche testi specifici. Allora è vero, io vi do ragione su questo, questo è stato un motivo di scontro, vi do questa notizia interna. Io mi sono scontrato con la redazione che diceva no, noi non dobbiamo fare libri per dirigenti. Scherzo, sto un po' exacerbando la situazione ma in modo schercioso. no, in realtà avete ragione. Quello che a me dicono spesso è che spesso per i dirigenti molti, non tanto un libro, cioè guardate, realizzare un libro fatto bene per i dirigenti, in realtà bisognerebbe realizzare non un libro ma una mini enciclopedia, perché si suppone che un dirigente abbia una preparazione molto ampia, cioè si tratta di realizzare più tomi. Noi lavoreremo su questo, quantomeno per darvi, per creare diciamo dei kit che siano adatti anche alla preparazione dei dirigenti. Il problema dei dirigenti è che in questi concorsi per dirigenti, ve lo dico da un punto di vista editoriale, non dovrei dirlo, ma è un po' come la scoperta dell'acqua galla, c'è una di quelle cose che sono tutti quanti. Quando ci sono concorsi dove comunque ci sono pochi posti, uno, due, dieci, quindici, venti posti, 30 posti, ad esempio nel nuovo concorso della regione Puglia si parla di 32 posti per dirigenti, di cui tra l'altro 16 riservati al personale interno, alla regione. Quindi quando ci sono questi concorsi per dirigenti, il motivo per cui le case editrici non investono più di tanto è che non vedono quale possa essere il ritorno, perché per concorsi con pochi posti poi magari si presentano 200 persone, 300 persone, 400 persone, alcuni di questi nemmeno lo comprano un libro, altri, quelli che comprano un libro, alcuni comprono un libro Simone, altri comprono un libro maggiore, altri il libro della casa editrice Fincopallo e alla fine come volume di vendita si finisce che le coppie vendute sono 20, 30, 50 e con 50 coppie vendute una casa editrice non ha alcun interesse a portare avanti delle pubblicazioni specifiche. Questo era per darvi anche l'idea del perché è difficile poi trovare volumi per dirigenti. Se questi volumi avessero un mercato più ampio, certamente insomma le case editrici investirebbero, quindi il problema è questo, è che ci sono dei volumi d'affari molto limitati, molti me lo dicono, ma perché per dirigenti poi non ci sono tanti volumi in giro, quindi sia le motivazioni sono due, sia perché la materia è un po' più complessa perché bisognerebbe poi pubblicare volumi molto più particolareggiati e quindi verrebbero fuori dei volumi enormi, oppure bisognerebbe insomma puntare su vari volumi, non solamente su un volume, sia perché comunque i volumi d'affari sono più limitati, cioè è inutile. Poi in queste scelte quello che il deterrente è il fatturato, se il volume non consente alla casa editrice di guadagnarci, la casa editrice non investe. È una banalità ma tant'è, è inutile che vi racconti delle storie per addolcire la situazione. La situazione è questa, quindi il motivo è che si vende poco per i dirigenti. Se si vendesse di più, le case editrici investirebbero molto di più. Dicevo, allora quello che a me segnalavano, ed è una prospettiva sulla quale lavorerò, adesso vedremo se la redazione mi darà anche l'ok per lavorare, se il nostro caro zio Giorgio, che poi un giorno vi presenteremo, se zio Giorgio, lo zio di tutti i maggioliani, ci darà l'ok, lavoreremo intanto per dare delle indicazioni un po' più specifiche su come studiare per dirigenti. Perché poi magari molti dirigenti hanno già, a volte anche proprio come volumi che mette a disposizione l'amministrazione, hanno già una serie di compendi, di manuali, di testi da cui poter studiare alcuni che consente come forma di aggiornamento di acquistare l'amministrazione stessa, altri dirigenti insomma li acquistano per i fatti loro questi volumi. Quindi quello che io sto notando è che spesso non sanno come impostare il tipo di studio. Quindi vedremo se quantomeno si possa realizzare un volume un po' più smart che non sia troppo costoso per la casa editrice, in modo tale che anche non avendo un fatturato particolarmente alto, insomma, possa dare un minimo di vantaggio alla casa editrice e nello stesso tempo possa risultare vantaggioso per gli utenti, per fornire quelle indicazioni su quantomeno capire come impostare lo studio. Poi ovviamente saranno i singoli candidati che sulla base di queste indicazioni decideranno se approfondire dal volume universitario che hanno ancora, dal compendio, da altri volumi o se acquistare magari dei compendi specifici. Cioè realizzare un volume solo per i dirigenti, generalmente vi dico già che un volume è proprio un manualone solo per i dirigenti, solitamente non sono delle operazioni particolarmente convenienti. Secondo me è molto meglio procedere in questi termini ed è quello che io proverò poi a dire, mi confronterò, andrò a litigare, ci tireremo i capelli, quei pochi che mi sono rimasti, ma ce li tireremo e vedremo cosa ne verrà fuori. Quindi per i dirigenti vediamo, poi se ci sarà modo di fornire anche delle indicazioni più precise per i dirigenti le fornirò. Però intanto comunque qualche concorso per i dirigenti sta venendo fuori e qualcosina, insomma, io spero che si possa fare. Adesso non ve lo prometto, non ve lo dico con certezza, però qualcosina poi con l'amministrazione proveremo a fare qualcosa di più specifico, vi mostrerò anche un po' di materiale specifico. Spero, insomma, che il tempo ce lo dia, perché poi come vedete il tempo vola e o sono io che sto diventando logoroico, non me ne rendo conto, o siete voi che mi ponete troppe domande e poi non il tempo è avaro e non si riesce a rispondere a tutti quanti. Distribuzione regionale dei posti per l'agenzia delle entrate. Allora, vi dico, sulla distribuzione dei posti questo è proprio una scelta dell'amministrazione. A volte l'amministrazione si confronta anche con i sindacati, ma spesso nemmeno i sindacati conoscono esattamente, almeno con, diciamo, spesso nemmeno loro sanno con particolare anticipo quale sarà la distribuzione dei posti nelle singole regioni. Quindi ci sono delle indicazioni di massima. Sono arrivate all'amministrazione delle indicazioni per poter riassumere non solo nelle regioni del nord ma anche nelle regioni del sud. Mi dicono che ci saranno anche dei posti nelle regioni del sud, ma darvi delle indicazioni precise al momento non me la sento perché io ho delle delle voci, ho raccolto delle voci, non ho un documento ufficiale. Senza un documento ufficiale, come mia abitudine in queste situazioni, preferisco non darvi delle indicazioni che poi vi potrebbero disorientare. Vi posso dire che solamente questo che è l'orientamento è quello a non mettere solamente posti, a non bandire solamente posti per le regioni del nord. Poi quando ci saranno delle indicazioni più precise, e secondo me le apriamo solamente con la pubblicazione del bando, perché generalmente l'agenzia non pubblica il dettaglio dei posti prima dalla pubblicazione del bando. Lo sapremo probabilmente nel mese di marzo, tra marzo e aprile, è difficile prima, poi vedremo dove saranno stati inseriti un po' di posti a concorso. Poi ci sono titoli aggiuntivi nel concorso dell'agenzia delle entrate? No, nei precedenti banni e non mi risulta che ci saranno cambiamenti importanti nel nuovo bando. Forse l'unico cambiamento notevole sarà proprio nella gestione della prova preselettiva, probabilmente, sì, probabilmente, non abbiamo nemmeno la certezza, ma forse si ritornerà a gestire la prova preselettiva come si faceva fino al, sostanzialmente al 2013 più o meno, quando era gestita in diverse regioni. In ogni regione dove c'erano dei posti c'erano delle sedi concorsuali. Quindi questo è quello che, come modifica un po' più rilevante di cui si sta discutendo e che è possibile ci sia. Poi altri cambiamenti alla canovaccia di svolgimento delle prove, no, e quindi l'unico titolo richiesto per l'accesso è quello, è la laurea trennale, ovviamente anche lauree magistrali, specialistiche, il vecchio diploma di laurea, quello quadrennale, va bene, però diciamo, laurea non diploma di scuola, non basta il diploma di scuola, ci vuole almeno la laurea trennale e la laurea trennale nelle aree della giurisprudenza, dell'economia, delle scienze politiche o di titoli equivalenti. Altri titoli, nella domanda di partecipazione al concorso, generalmente c'è anche un form, ci sono anche delle voci in cui inserire eventuali altri titoli come master, come scuole di specializzazione, eccetera, ma non sono titoli che fanno punteggio. Nei precedenti bandi non facevano punteggio, mentre per l'Inps fanno punteggio, quindi danno punteggio alle conoscenze linguistiche, informatiche, ad altri titoli posseduti master e altri titoli posseduti dal candidato, nel concorso dell'agenzia dell'entrata questo è un concorso per soli esami e dovrebbe restare così, io non ho indicazioni diverse al momento, poi se dovessero esserci delle nuove indicazioni ve le fornerò, ma al momento vi dico che il bando dovrebbe essere impostato proprio come il precedente, quindi unica variazione di nota, forse, forse sarà quella la distribuzione, lo svolgimento della preselezione, non tutti quanti a Roma, ma svolta in più città a livello nazionale, questo è anche un punto su cui è bene soffermarsi, perché svolgere la preselezione in vari centri, in varie aule in tutta Italia significa che, mentre nel precedente concorso, non la preselezione, ma la prima prova, perché l'agenzia dell'entrata non ha la preselezione, la prima prova del concorso, nel precedente concorso, per poterle espletare, è stato fatto al Roma, è andato via più di un mese, hanno iniziato a settembre, hanno finito a inizio novembre, quindi sono andati avanti per un mese e mezzo, circa, quasi, anche più forse di un mese e mezzo, adesso, quando veniva gestita la prova in diverse città, in diverse regioni, in un giorno, realizzavano tutta quanta la prima, in un solo giorno, quindi il fatto che si possa gestire la prima prova in un solo giorno, o comunque in due, tre giorni, cioè in pochissimi giorni, perché questo potrebbe essere quello che accaderà, cioè che nell'arco di una settimana, un po' come è successo per l'INPS, vengono esaminati tutti quanti i candidati della prima prova, significa che l'avvicendarsi delle varie prove dell'agenzia delle trate è probabile sia molto più rapido, molto più veloce, quindi anche se il bando dovesse tagliare di qualche settimana, quindi non dovesse essere aprile, dovesse essere maggio, in più che allora, già per fine giugno, inizio luglio, possono tranquillamente fare la prima prova, quindi è possibile che la prima prova venga svolta già, ripeto, tra giugno e luglio, se dovesse andare in porto questo sistema della dislocazione dei candidati su tante sedi regionali. Questo lo dico perché molti non ce l'hanno presente, molti hanno presente il vecchio bando, quello del 2018, dove è andato via un mese e mezzo per tutti quanti i candidati. Questa volta probabilmente sarà decisamente più veloce lo svolgimento della prova, però ancora su questo il dettaglio non ce l'ho, e ancora una volta vi dico, appena avremo il documento ufficiale, ne parliamo. Quindi però titoli aggiuntivi al momento pare di no, vengono comunque richiesti ma non sono oggetto di valuta, non fanno punteggio. Il concorso dell'Agenzia delle Entrate è un concorso per i suoi esami, mentre quello dell'Inps è un concorso per i titoli ed esami. Cosa cambia? Che nell'Agenzia delle Entrate non danno un punteggio ai titoli, anche se in sede di orale la commissione può valutare, non dando un punteggio specifico, ma più che altro come valutazione generale delle competenze, delle conoscenze del candidato, un po' come se fossero delle soft skill per usare l'addizione della dadona, e in più perché poi orienta la commissione, e poi l'amministrazione e la dirigenza dell'Agenzia delle Entrate, anche in quella che potrebbe essere l'assegnazione negli uffici dell'Agenzia, visto che ci sono uffici con competenze molto diverse, quindi queste sono indicazioni che servono anche da questo punto di vista. Quanto può incidere l'attuale situazione? L'abbiamo già detto sui concorsi, potrebbe esserci lo scordimento del regolatore in concorsi comune di Bari? Assolutamente sì, adesso non so a quali concorsi si fa riferimento, se si fa riferimento ai nuovi concorsi, quelli che bandierà il comune di Bari, guardate, generalmente Bari negli ultimi anni ha sempre assunto, generalmente ha assunto molti più candidati rispetto ai posti messi a concorso, quindi se mi state chiedendo questo, il comune di Bari varie volte ha assunto anche più del doppio, il triplo dei posti messi a concorso, ed è questo anche uno dei motivi per cui io vi dico, non spaventatevi quando vedete che ci sono dei banditi di concorso con 5, 6, 8 posti, perché sta capitando spessissimo, poi ve lo mostrerò anche con documenti ufficiali, nelle prossime settimane, sta capitando spessissimo che stiano assumendo molte più persone rispetto ai posti banditi. Ci saranno i candidati per un numero pari a 20 posti, sui 20 posti messi a concorso? Questo non lo so dire con certezza, però credo che il numero di 20 sia calcolato sul numero totale dei posti messi a concorso, però dovrei rileggere il bando, adesso a memoria non lo ricordo, e a questo punto non abbiamo più tempo per leggerlo con attenzione. Professore, per il caso del concorso della regione, no, non abbiamo ancora, dobbiamo aspettare ancora dei giorni per i concorsi della regione Lombardia, l'ho già detto, IMS non ha mai pubblicato banche dati negli ultimi dieci anni, l'ultima volta che ha pubblicato banche dati è stato per i bandi del 2007-2008, quindi parliamo di oltre dieci anni fa, ma da allora insomma è cambiato tutto quanto in termini di gestione dei concorsi, quindi i bandi più recenti, che sono quelli più suggestivi per capire come si svolgeranno le prove dell'INPS, sono stati i bandi in cui non è stata assegnata, o meglio, non è stata pubblicata la banca dati, per cui se sperate nella banca dati vi devo dare una brutta notizia, vi dico, non ve lo dico con assoluta certezza, però vi dico che oggi, considerando le esperienze degli ultimi anni, non c'è mai stata banca dati, quindi direi che l'orientamento sarà quello a non pubblicare la banca dati, per quanto l'ente comunque ha commissionato una banca dati, ma è una banca dati che serve a supporto della gestione del concorso, e questa banca dati verosimilmente non sarà pubblicata, poi se l'ente dovesse cambiare l'orientamento, poi vedremo, tridico cosa deciderà, e poi ci confrontiamo su questo. Per iniziare la progettazione con noi, per il quale ci sarà la progettazione, che testi ci consiglia? Allora, intanto possono andare bene i testi che ci sono già sul mercato. Abbiamo pubblicato dei volumi proprio per il 1800, cioè sia il volume con le prove ufficiali, vi do una notizia sul volume con le prove ufficiali, tra le varie cose su cui sto lavorando, il volume con le prove ufficiali dei precedenti bandi, è un volume che aveva 70-80 videolezioni, clip brevi, clip di 1, 2, 3 minuti allegate. Stiamo lavorando in modo tale che nella nuova versione, che ci sarà insomma tra qualche settimana, il numero delle videolezioni allegate a quel volume aumenterà, un po' di queste le metteremo comunque a disposizione di quanti avevano già acquistato il volume, però poi ci sarà proprio questa nuova edizione dove dovremo arrivare a oltre 200 videolezioni allegate, io credo che ci attesteremo tra le 250 e le 300 videolezioni allegate, parliamo comunque di videolezioni breve, non aspettatevi dei corsi completi, dei corsi che è ovvio che poi costino molto di più, su questo mi piace sottolinearlo perché poi molti si illudono che non è un corso completo, però sono una serie di clip in cui commento i quiz di logica che sono presenti nel volume e quindi nella nuova edizione delle prove ufficiali ci saranno tipo oltre 200, 250, 300 videolezioni in cui andrò a commentare sia tutti i quiz di logica presenti in quel volume, ma ci saranno anche alcune videolezioni di approfondimento con eventuali nuove tipologie di quiz di logica che potrebbero assegnare. Quando ci sarà questa nuova versione dovete pazientare qualche settimana, io penso che per marzo avremo il nuovo volume. Nel frattempo c'è in mercato il volume, quello proprio dove troverete sulla copertina, vediamo un po' se lo becco o ve lo mostro, Inps, andiamo proprio direttamente sul sito della... Era uscito prima, è scomparso. Mi scomparso, Inps. Questo qua. Sono sul sito maggiore. Allora, questo è il volume, diciamo, il manuale, anzi, questo è il manuale per la seconda prova. E va bene, quindi, per chi volesse iniziare già a prepararsi anche per le materie della seconda prova. Quindi, manuale con materie quali scienze delle finanze, economia del lavoro, elementi di economia politica, diritto civile, elementi di diritto penale. Però c'è questo volume, se volete un volume per la preselezione, questo qui lo vedete con il nome mio sopra ed è, diciamo, un volume che ha un supporto, che ha un formato più manualistico con alcune nozioni proprio cartacee, schede, su quiz di logica, ma anche delle nozioni su cultura generale, informatica, inglese. Mi piace sottolineare. Guardate, il problema è che nei concorsi dove c'è la cultura generale, studiare la cultura generale solamente da un volume spesso è pertente come strategia. perché quando parliamo di cultura generale parliamo di tutto, dal contrario di tutto e quindi non ci sarà mai un volume che vi possa dare una preparazione completa. Quindi nei volumi in commercio, compreso il mio, ma anche in altri volumi, per la cultura generale potete attingere qualche informazione, le informazioni che capino un po' più spesso nei concorsi, ma non è detto che poi quelle vi vengano assegnate. Magari non ce ne sarà nessuna di quelle e andranno su domande un po' più insolite. Poi in uno dei prossimi webinar vi mostrerò anche alcune delle domande di cultura generale che ho assegnato ad esempio in alcuni concorsi precedenti per farvi capire meglio cosa intendo. Quindi per chi vuole acquistare un volume perché dice io sono scarso in cultura generale, guardate, vi aiuterà relativamente un volume solamente per questo. Cioè qualunque volume in commercio lo dovete abbinare a tante simulazioni, ad esempio i simulatori online vi possono aiutare in questo. Oppure troverete online delle prove, dei PDF, anche di altri concorsi dove hanno assegnato cultura generale. Va bene, provate, quindi associate ad un eventuale volume, quello maggiore o quello di altre case editrici, quello che vi piace di più, associate delle esercitazioni con materiale che si trovano online, banche dati che si trovano online. Adesso io non ricordo se qui, anche in questo volume, avevamo abbinato uno simulatore online, quindi è uno simulatore diciamo a cui si può accedere, a cui possono accedere le persone che hanno acquistato questo volume. Quindi la strategia migliore è questa. Viceversa, per logica, per informatica, per inglese c'è già un po' più da prepararsi e da studiare. Ma per il cultura generale non comprate un volume solamente per questo perché insomma vi prendere in giro, insomma se vi dicessi basta questo per ottenere una buona preparazione ti prendo in giro. Non basta quello per ottenere una buona preparazione. Quello è un punto di partenza, ma per la cultura generale conta proprio molto le esercitazioni che farete. Mentre l'altro volume che dicevo, quello con le prove ufficiali, adesso non lo vedo, però comunque lo trovate. Vediamo Inps. Eccolo qua, questo qua. E questo qua. Per chi lo lo volesse c'è questo volume con le precedenti prove assegnate nei concorsi del 2017 e del 2018. Vi dicevo poi tra qualche settimana ci sarà la versione ufficiale, in questo c'erano 70, 80, insomma qui dice 42 nuove video lezioni di logica, forse ricordavo male, quindi saranno 40, 50 lezioni di logica, ce ne saranno molte di più, avremo oltre 200 nella nuova versione, forse ci sarà anche una delle, come si dice, una non mi viene il termine, che gira, come si chiama quando si aggiunge una vabbè, diciamo dei nuovi argomenti, delle nuove tipologie di quiz che saranno aggiunte, sia come forma di video lezione, sia come appendice, non mi veniva, perdonatemi, è da stamattina che parlo e il cervello inizia ad andare in fumo, quindi questo per l'Inps. Poi, oggi non finiscono più, ma quante domande mi avete fatto? Per iniziare la preparazione, e l'abbiamo detto, buongiorno, ci sono novità per la preparazione della graduatoria? No, su cancellieri bisogna ancora aspettare, insomma, a me dicono che è imminente, quindi evidentemente stanno avendo, secondo me il problema non è tanto nella graduatoria, io credo che il problema dei cancellieri sia legato più alla determinazione del calendario di svolgimento delle prove, adesso ieri non ho controllato, magari è uscito ieri, ma ieri non ho avuto tempo perché sono stato impegnato tutto il giorno con delle attività lavorative, quindi non so se ci sono delle novità, però fino a lunedì mi sembra che non fosse uscito nulla, e dicevo, secondo me il problema è proprio nel calendarizzare tanti turni di prova, non è semplice, dovendo fare gruppetti di poche persone, quindi visto che il numero sarà superiore a 8000, il numero di candidati diventa complicato, quindi dovete pazientare alcuni giorni, non tarderà tantissimo, almeno, ripeto, questo è quello che mi è stato detto in modo informale, poi vedremo se sarà così o meno, no, allora di questo che doveva essere pubblicato a dicembre il concorso della Regione Puglia, di questo bando di concorso andate sulla mia pagina che trovo test concorsi, anzi forse anche su leggeoggi.it troverete un posto dove do tutte quante le indicazioni più recenti, di questo in realtà si parlava di entro dicembre ma se ne parlava mesi fa quando c'era la precedente giunta emiliana, la prima giunta emiliana, nel frattempo è cambiato qualcosa, c'è un nuovo assessore al personale, questo nuovo assessore è questo qui, è il dottor Stea, questo che vedete nell'immagine e c'è stato ad esempio un suo articolo proprio pubblicato però sul sito della Regione Puglia in cui parla di queste nuove assunzioni, qui dà dei numeri che poi insomma io i numeri quelli un po' più precise li trovate nel post che ho pubblicato sulla mia pagina e lui diceva, dava come indicazione diceva stiamo facendo ogni sforzo affinché si possa partire con la pubblicazione già a febbraio quindi lui parlava già di questo mese per l'eventuale pubblicazione di questi nuovi bandi e vi dico che ce ne saranno tre uno per diplomati uno per laureati cioè per i funzionari e uno per dirigenti dice che sta facendo ogni sforzo quindi vuol dire che non è proprio una situazione semplice e quindi è possibile che possa slittare anche alle settimane seguenti quindi potrebbe anche slittare a marzo il bando marzo-aprile quindi aspettatevelo aspettatevelo in questa finestra temporale tra questo mese diciamo e marzo-aprile ci saranno questi nuovi bandi e saranno bandi gestiti dalla Forbes quindi aziende in house sul quale mi sono basta domande redazione troppe domande dovete selezionare un po' di più le domande insomma io mi lamento allora salve vorrei sapere se c'è una novità sul concorso ACI 200 funzionari no di ACI non sappiamo nulla e anche questo è uno di quei bandi che vi dico su cui vi dico per quanto abbia avuto modo di vedere non ho trovato nessuna notizia ufficiale quindi mi sono interessato di questo concorso ACI non ho trovato nessuna notizia ufficiale e questo può significare due cose o hanno secretato una serie di atti e ci può stare hanno secretato perché o comunque sono andati hanno deciso di sottoscrivere delle convenzioni con enti pubblici che non è detto che debbano essere rese pubbliche quantomeno non è indispensabile farlo subito come accade con un bando di gara non è un bando di gara che insomma deve seguire delle norme molto severe dal punto di vista anche pubblicistico quindi deve essere pubblicato sul MEPA sulla sua amministrazione trasparente eccetera deve seguire quindi ci sono delle regole un po' meno severe quindi può darsi che insomma può anche darsi che ci sia un accordo tra amministrazioni pubbliche o e questa è l'ipotesi che io do a un 20% per me è l'ipotesi quella più probabile 80% poi vediamo se dovrò ritoccare queste percentuali secondo me l'altra ipotesi è che l'ACI abbia deciso di svolgere i concorsi in estate quindi andando ad incrementare questo assembramento concorsuale e in questa seconda diciamo ipotesi vuol dire che i dirigenti dell'ACI è possibile che aspettino di vedere quali saranno le decisioni quelle un po' più aggiornate che assumerà anche il nuovo governo aspetteranno di vedere come evolverà la situazione svolgeranno le prove magari tutti quanti a Roma o comunque in poche sedi regionali e lo faranno appena le condizioni lo consentiranno per cui io non me l'aspetto per il momento il concorso ACI io non me l'aspetto in settimane imminenti o quantomeno per me 20% che possa essere imminente tipo marzo-aprile 80% che si possa celebrare dopo maggio secondo me anche un bel po' dopo maggio tipo giugno luglio o addirittura settembre addirittura anche dopo la pausa estiva ad oggi io altre notizie su ACI non ce le ho quantomeno notizie ufficiali non ce le ho ma nemmeno né ufficiali né ufficiose di INPS e AE ho già dato delle indicazioni di 2700 concellieri ho già dato delle indicazioni vado avanti senza leggerlo tanto scusatemi ma siamo davvero molto molto oltre redazione maggiore vorrei porre l'attenzione del professore una variante di un quesito da risolvere con il metodo delle caselle quante parole possono essere formate con le lettere della parola quaderno che comincino con la sillaba do ho provato a risolverlo con il metodo delle caselle spiegato dal prof nelle video lezioni ma non ho saputo come impostare la variante secondo me noi dovremmo iniziare a regia secondo me noi dovremmo iniziare a dare la possibilità di spiegare questi quiz ad altre persone potrebbe essere una nuova cosa cosa bella se no posso fare tutto quanto io comunque qui la variante questa è una tipologia di quiz che hanno iniziato ad assegnare che il form si hanno iniziato ad assegnare ad esempio in alcuni concorsi gestiti per la regione campagna il corso concorso regione campagna in realtà come tipologia di quiz è un quiz che hanno preso anche un po' da esperienze universitarie e poi hanno iniziato adesso ad utilizzarlo anche in alcuni concorsi pubblici ripeto il primo concorso in cui questo tipo proprio di domanda così strutturata è stato usato in modo un po' più massivo e è stato proprio il corso concorso della regione campagna intanto quante lettere ha la parola quaderno ne ha quaderno ne ha otto io ne conto se non sono io troppo stanco sono otto lettere quindi andiamo a realizzare una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto tre, sei, otto caselle poi la domanda pone dei vincoli rispetto probabilmente ad altri quiz che avrei visto pone dei vincoli qual è il vincolo? ci dice che queste parole devono cominciare con la sillaba do cioè significa che io in prima posizione e in seconda sono obbligato a mettere la di e la o mi chiedo quante di ci sono nella parola quaderno una sola quindi io posso scegliere una sola lettera da mettere in posizione 1 solo la di posso mettere in posizione 1 quindi la di la togliamo di mezzo perché praticamente devo metterla in posizione 1 in seconda posizione quali lettere posso mettere? la o e ho solo una o nel termine quaderno quindi ho una sola scelta possibile posso scegliere solo quella lettera quindi nella seconda casella sono costretto a mettere 1 nelle altre caselle a partire dalla terza nella terza casella posso mettere tutte le lettere tranne la d e la o cioè posso mettere la q la u la a la e la r la n cioè ho 6 scelte possibili poi che ne so se in terza posizione suppongo di supponiamo di mettere la q vuol dire che poi in quarta posizione avrò avrò a e l avrò 5 scelte possibili e poi via discorrendo poi resteranno 4 3 2 1 e a questo punto a questo punto che tipo di operazioni dobbiamo fare? allora a questo punto l'operazione che va svolta è intanto il prodotto tra tutti i numeri che ho messo in alto quindi 1 per 1 per 6 per 5 per 4 per 3 per 2 per 1 e devo chiedermi se basta il prodotto o se devo anche dividere per qualcosa da che cosa dipende se basti il prodotto dei numeri scritti in alto o se sia necessario dividere dipende dall'eventuale presenza di lettere ripetute di doppie o comunque lettere presenti più volte io vedo che la q ce n'è una sola in quaderno la u ce n'è una sola la a ce n'è una sola la d ce n'è una sola la e ce n'è una sola la r ce n'è una sola la n ce n'è una sola la o ce n'è una sola c'è ogni lettera di ogni lettera è presente un solo esemplare di ogni lettera quindi in questo caso basta il prodotto se che ne so di a ce ne fossero state 3 avrei diviso se questa è un'ipotesi avrei diviso per 3 fattoriale cioè 3 per 2 per 1 se di o ce ne fossero state 4 avrei diviso partendo dal 4 avrei diviso per 4 per 3 per 2 per 1 e via discorrendo qui grazie a dio non ci sono lettere ripetute quindi mi basta solamente effettuare il prodotto in alto come effettuo in modo vantaggioso il prodotto in alto come volete a me viene subito da svolgere mi si sta spegnendo il computer allora a me viene subito da svolgere questo prodotto tra 6 poi 3 per 2 6 cioè 6 per 6 è 36 poi ancora ho questo 5 per 4 che è 20 moltiplicare per 20 significa moltiplicare per 2 quindi fare il doppio e poi ancora aggiungere uno 0 quindi 36 per 2 è 72 aggiungendo uno 0 direi che è 720 quindi questo per rispondere alla domanda che mi è stata fatta al volo e credo che alcune di queste domande un po' più elaborate forse una o due le ho trattate proprio nel volume che ho mostrato all'inizio della video lezione quella sulle 800 video lezioni il volume per il concorso informe saranno 800 video lezioni allegate quindi io non so tu da quale volume hai studiato probabilmente hai un vecchio volume quelli del 2018 quelli realizzati 2018-2019 forse 2019 no sì 2019 quelli realizzati per il concorso INA o funzionari giudiziari nel nuovo quello con le 800 video lezioni ci sono tanti altri argomenti come credo che ci sia anche la spiegazione di cose di questo tipo qui ancora 5 minuti questo quiz l'avevo già commentato la volta scorsa in realtà poi nell'enfasi c'era la redazione che mi faceva che mi diceva stringi stringi che siamo già troppo oltre anche oggi siamo arrivati a mezzogiorno dovevo finire alle 11 11 11 un quarto siamo già a mezzogiorno quindi anche oggi mi stanno dicendo stringi e poi mi sono scordato di commentare la seconda parte della spiegazione di questo quiz perché in questo quiz io volevo dividere la spiegazione in due parti la prima parte l'avevo già fatta la volta scorsa quindi andate a vedere il webinar della volta scorsa allora rileggiamolo per poi farvi capire come rispondere perché io di questo quiz ho trovato varie formulazioni in alcune formulazioni era quello che poi mi è mancato che non sono riuscito a dire la volta scorsa che mi è passato proprio di me e mi scuso per questo quindi completo oggi diciamo la spiegazione sappiate che la colpa è della redazione che mi dice che dobbiamo stringere che non abbiamo mai tempo per fare tutto quanto allora dicevo questo era un quiz in cui la volta scorsa ho dato la spiegazione che si darebbe quando chiedono quando la domanda è impostata in un certo modo poi sulla base proprio degli stessi dati o comunque di una formulazione molto simile a volte pongono un altro tipo di domanda rileggiamola velocemente così cerchiamo di completare la spiegazione di questo quiz abbiamo questi due fari con entrambe le luci che si accendono e si spengono a intermittenza regolare uno rimane acceso per 3 secondi quindi acceso 3 secondi e poi spento per 8 secondi e questo è il faro 1 il faro 2 sappiamo che resta acceso per 2 secondi e poi spento per 7 secondi 15 secondi fa entrambe le luci si sono accese nello stesso preciso istante se ricordate noi l'abbiamo fatto anche dal punto di vista grafico indicando 15 secondi fa come meno 15 cioè partendo da questo istante 15 secondi fa e 15 secondi prima rispetto a questo istante ecco perché inserisco meno 15 e sappiamo che a meno 15 si sono accese entrambe io sopra metto il faro diciamo 1 e sotto il faro 2 quindi entrambe 15 secondi fa si sono accese insieme la domanda la domanda dice tra quanti secondi per la prima volta da adesso entrambe le luci si spegneranno allora la volta scorsa io ho dato praticamente la soluzione che ho dato è quando si riaccenderanno insieme nuovamente e ho detto lì lo potevamo fare in marimoglio ad esempio ragionando in termini di minimo comune multiplo però considerando l'intero ciclo acceso spento cioè 3 più 8 11 così come 2 più 7 9 per il secondo faro qui non chiede quando si riaccenderanno insieme la domanda ed era questo diciamo il passaggio mancante quindi a completamento della spiegazione della volta scorsa prestate attenzione proprio a come è formulata la domanda se vi chiedono cosa accade quando si riaccendono insieme spiegazione della volta scorsa qui chiedono quando si spegneranno insieme quindi dovete prestare attenzione a quando si spengono insieme a quando si spengono intanto le due i due faghi la domanda come punto di partenza non mi dice quando si sono spenti insieme contemporaneamente mi dice quando si sono accesi contemporaneamente quindi intanto dobbiamo cambiare il punto di partenza cambiando il punto di partenza il primo faro se si è acceso 15 secondi fa mi chiedo quando si è spento beh il periodo di accensione è di 3 secondi quindi se 15 secondi fa si è acceso resterà acceso 3 secondi e poi si spegne quindi si spegnerà a diciamo meno 12 cioè dopo 3 secondi il secondo faro quindi questo per il faro 1 spento il secondo faro si resta acceso 2 secondi e poi si spegne quindi si spegnerà a diciamo facciamo un'altra linea se forse poi non si capisce quindi meno 15 quindi poi si spegnerà diciamo a meno 13 quindi il punto di partenza su cui dovete focalizzare l'attenzione se vi chiede se il problema è impostato in questo modo vi chiede quando si spegne è proprio sul fatto che uno si spegne a meno 12 e l'altro si spegne a meno 13 e poi se volete possiamo seguire il ragionamento in questo caso visto che non abbiamo lo stesso punto di partenza si spegne entrambi a meno 12 o entrambi a meno 13 forse qui vi potrei dare delle chiavi di soluzione ma qui può risultare utile procedere poi in termini di intervallo se il primo faro si è speso a meno 12 tra 11 secondi quando si è completato tutto il ciclo spegnimento accensione si rispegnerà quindi poi si rispegnerà di nuovo a meno 1 poi si rispegnerà di nuovo a meno 1 più 11 secondi diventa 10 poi di nuovo a 21 poi a 32 poi a 43 e via discorrendo il secondo faro si è spento a meno 13 quando si rispegnerà di nuovo ogni 9 secondi perché il ciclo del secondo faro spegnimento accensione o accensione spegnimento è di 9 secondi quindi meno 13 se aggiungo 9 secondi arriverò a meno 4 se aggiungo 9 secondi arriverò a 5 poi se aggiungo 9 secondi arriverò a 14 poi abbiamo 23 poi abbiamo 32 se vedete a 32 mi fermo perché ho trovato lo stesso numero che c'era in alto e quindi vuol dire che a 32 secondi si sono spenti entrambi quindi questo per darvi insomma l'indicazione su un quiz che è capzioso e a cui bisogna dare la dovuta attenzione anche proprio al significato dalle singole parole perché stanno attenzione ad esempio in questo caso anche a quello che è il punto di partenza punto di partenza che non è quello indicato nella traccia andava sviluppato nella traccia parlava di accensione ma a noi interessa come punto di partenza lo spegnimento perché poi nella traccia ci parla di spegnimento e perché ho preferito agire con un asse piuttosto che con il mio comune multiplo perché il punto di partenza non era identico non era per entrambi i fari meno 12 o meno 13 ma per uno meno 12 per l'altro meno 13 e a quel punto forse più comodo e più agevole per evitare di sbagliare procedere così come vedete una volta che uno ha capito che l'intervallo è ogni 11 o nella seconda cosa che è ogni meno che ogni 9 secondi non è difficile non è nemmeno lento ragionare in questo modo questo per completare vediamo se riesco a c'erano diversi quiz su cui mi volevo soffermare allora questo quiz in realtà mi piaceva mostrarlo questa è una di quelle nuove tipologie di quiz che ad esempio sono state assegnate in alcuni concorsi come funzionari giudiziari in quei concorsi in cui il Formez ha cambiato ha modificato alcune delle domande che ha segnato e in questa domanda questa è una domanda in cui per come è formulata non sempre si capisce subito si percepisce subito che l'operazione da svolgere è la media aritmetica ma questo è quello che mi sta chiedendo la domanda bisogna effettuare una media aritmetica perché? perché dice che abbiamo un numero che è meno 7 che è inferiore a qualcosa ma è superiore a qualcos'altro e l'intervallo in merito a quanto è inferiore e l'intervallo in merito a quanto è superiore a qualcos'altro sono uguali perché dice tanto quanto il tanto quanto vi deve far capire che è uguale cioè detto in altro modo se io il meno 7 lo metto qui vuol dire che c'è una quantità che è più piccola di meno 7 l'altra che è più grande di meno 7 e il meno 7 sta proprio al centro di questo intervallo che va dal più piccolo al più grande e l'elemento che sta al centro non è altro che in termini matematici la media aritmetica tra l'estremo inferiore e l'estremo superiore e noi sappiamo che questo numero è inferiore a 78 quindi vuol dire che il 78 è più grande di meno 7 ma meno 7 è superiore a qualche altra cosa che io non conosco che indico con x e a questo punto se vogliamo seguire la strada quella come dire quella scolastica la strada scolastica è quella di effettuare la media aritmetica tra x e 78 è uguale a meno 7 come si imposta la media aritmetica tra due quantità si sommano le due quantità e dividiamo per due perché stiamo sommando solamente due numeri cioè dovrò scrivere x più 78 diviso 2 e questo è uguale a 7 scusatemi a meno 7 perché c'è anche il meno e poi devo sviluppare l'equazione come la sviluppo questo 2 lo moltiplico per il meno 7 sto dando un po' per scontato un po' di passaggi se avete difficoltà ovviamente sulle equazioni poi vi consiglio queste sono delle operazioni che potete tranquillamente approfondire con tante persone docenti di matematica amici che hanno studiato matematica ingegneria corsi scientifici non è un argomento per il quale vi serve Giuseppe Codro io comunque di queste cose poi parlo nei miei corsi con i miei corsisti vado ad approfondire anche queste tecniche per risolvere semplici operazioni matematiche che però alcuni purtroppo non ricordano più perché o non le hanno studiate bene nella loro vita o hanno avuto pessimi docenti insomma per tanti motivi dicevo quindi diventerebbe poi x più 78 uguale a meno 14 e poi portando il 78 dall'altra parte diventerà meno 14 meno 78 cioè 14 e 78 si sommano e ottengo 92 quindi la risposta verrebbe meno 92 questo volendo seguire una via un po' più scolastica che è quella proprio di impostare la formula della media aritmetica ma in modo anche più visivo se abbiamo capito che il meno 7 è al centro di questo intervallo voi potete ragionare così calcolare l'intervallo che c'è tra meno 7 e 78 e dovete ragionare pensando che lo stesso intervallo ci deve essere prima cioè tra x e meno 7 ci deve essere lo stesso intervallo quindi io mi chiedo da meno 7 a 78 ma quante unità ci sono? e qui prestate attenzione quando ci sono numeri negativi voi dovete ragionare così da meno 7 io intanto devo andare verso lo 0 e poi da 0 devo andare a 78 quindi da 0 a 78 ci sono 78 unità e da 0 a meno 7 ce ne sono altre 7 e quindi complessivamente 7 più 78 mi dice che l'intervallo a destra del meno 7 è fatto da 85 unità e anche 85 unità ci deve essere nell'intervallo che è a sinistra del meno 7 quindi questo numero x è il numero che deve precedere il meno 7 di 85 unità ovvero 85 unità prima del meno 7 cioè 7 più 85 mi dà 92 con il meno davanti quindi meno 92 sono andato forse un po' troppo velocemente sui calcoli ma ancora una volta c'è la regia che non so se mi sta salutando o se mi fa così la regia e quindi devo un po' accelerare vediamo giusto un ultimo quiz questo forse porterà troppo tempo adesso spiegare questo mi chiedo scusa a chi no dai lo facciamo dai lo facciamo perché è una persona che me l'aveva chiesto tanto tempo fa è una persona a cui voglio bene non posso dire di no a questa persona originaria di Palermo ti dico solamente questo originaria di Palermo e quindi lo devo fare solo che dove c'ho spazio ce l'ho qui allora in questa prova si dice quattro amiche sono sedute una accanto all'altra questa è una domanda che rientra in termini di classificazione tra i quiz che io indico come relazioni di ordine e grandezza qualche altro autore usa delle indicazioni che francamente sono superate desuete però insomma a bontà loro vogliono usare ciascuno poi usi quello che vuole alcuni parlano di logica concatenativa che è un termine davvero molto arretrato in questo caso è più giusto parlare di relazioni di ordine e grandezza perché è una dizione che riassume più correttamente quello che bisogna fare in questa tipologia di quiz in questa tipologia di quiz vanno proprio impostate bisogna porre ordine tra le informazioni bisogna effettuare degli abbinamenti capire quali sono gli abbinamenti sulla base delle indicazioni fornite nella traccia attenzione che ci sono poi varie tipologie di brani molti si sono abituati ad alcuni brani in cui va fatta la tabella in un certo modo eccetera non sempre che bisogna agire così vediamo qui questo brano cosa ci chiede come è meglio procedere per ordinare queste informazioni allora dicevo quattro amiche che sono sedute una accanto all'altra a una tavolata di classe quindi una accanto all'altra mi fa pensare al fatto che devono essere in fila e quindi a me viene da dire a questo punto possiamo fare come dire una tabella con una, due, tre quattro posti perché sono quattro amiche quindi quattro posti una accanto all'altra poi vedremo probabilmente in questa tabella ci andrò a mettere varie righe perché dovrò inserire varie informazioni comunque ho l'amica 1 ho l'amica 2 l'amica 3 e l'amica 4 la ragazza che ha ordinato la pizza malgherita è seduta a destra di Elena però io ancora non so dove è seduta Elena cioè se Elena è seduta qui in prima posizione vuol dire che la pizza malgherita gliela devo mettere in seconda perché quella che ha ordinato la pizza malgherita è a destra di Elena ma Elena io potrei metterla anche in seconda allora la pizza malgherita la devo mettere in terza ma io Elena potrei metterla anche in terza e quindi vuol dire che la pizza malgherita sarò costretto a metterla in quarta certamente quello che capisco è che Elena non posso metterla in quarta perché se Elena la mettessi in quarta poi la pizza malgherita mi verrebbe in un quinto posto che non è contemplato nel quiz quindi io da questa informazione cosa capisco cosa deduco capisco deduco che Elena non posso metterla in quarta posizione e questo magari lo annuoto li metto in quarta uno no Elena perché poi mi aiuta a capire poi sulla pizza malgherita ci ritorniamo in un secondo momento quando sapremo dove posso mettere Elena cioè se Elena l'avrò messa al primo posto vuol dire che la pizza malgherita la metterò al secondo però quello che capisco con certezza anche qui è che certamente io la pizza malgherita non ce l'ho al primo posto perché averla al primo posto poi non non mi darebbe la possibilità di mettere questa pizza malgherita a destra di Elena perché nella migliore dell'ipotesi o nella peggio dell'ipotesi Elena è prima e quindi vuol dire che come minimo la pizza malgherita la devo mettere in seconda posizione insomma questo per farvi capire come andava che tipo di deduzioni bisognava fare sulla base di questa prima informazione quella sulla pizza malgherita poi sappiamo che mentre la ragazza che ha scelto la pizza a quattro stagioni è seduta subito a sinistra rispetto a Marta quindi quattro stagioni a sinistra rispetto a Marta allora come ragione in questo caso in realtà la deduzione che devo fare è analoga a questa che ho appena fatto cioè io so che Marta dove la posso mettere Marta la posso mettere in quarta posizione certo quindi se me Marta la metto in quarta posizione vuol dire che la quattro stagioni la andrò a mettere in terza cioè qui però io Marta la potrei mettere anche in terza e quindi la quattro stagioni in prima già quello che deduco che certamente questa pizza a quattro stagioni non la posso mettere in quarta posizione perché comunque Marta se Marta la mettessi in quarta la quattro stagioni in quarta non sarebbe a sinistra di Marta ma sarebbe proprio la pizza che ha preso Marta quindi certamente la quattro stagioni non in quarta Marta io la potrei mettere in terza posizione qui e la quattro stagioni verrebbe in prima ma certamente Marta non la posso mettere in prima perché se la mettessi in prima poi la quarta stagioni a quattro stagioni mi verrebbe in una posizione che non è contemplata proprio dalle informazioni che mi ha fornito il quiz quindi cos'altro deduco deduco che io questa pizza a quattro stagioni certamente non la posso mettere in che Marta certamente non la posso mettere in prima posizione quindi in prima così lo ricordo gli metto no Marta poi vado alla pizza napoletana che non è stata scelta né dalle due amiche sedute nei posti centrali quindi pizza napoletana non nei posti centrali non secondo e terzo quindi pizza napoletana o qui in prima o qui in in quarta posizione e cos'altro so di questa pizza napoletana non è stata scelta dalle due amiche sedute nei posti centrali né è stata scelta da Alice però io Alice ancora non so e sappiamo che quindi la pizza napoletana che non è stata scelta è stata scelta questa pizza napoletana dall'amica seduta all'immediata sinistra di quella che ha scelto la pizza quattro quattro stagioni e e chi ha scelto la pizza quattro stagioni non lo sappiamo ancora però e qui è il punto su cui io vi invito a riflettere guardate questa è un'informazione che uno dice ma questa forse non mi aiuta in realtà vi aiuta tantissimo perché vi dice di questa pizza napoletana che è stata scelta dall'amica seduta alla sinistra di quella che ha scelto la pizza quattro stagioni allora avendo capito che la pizza napoletana può essere stata scelta o dalla prima o dalla quarta siccome questa pizza napoletana è stata scelta dall'amica seduta a sinistra delle quattro stagioni allora qui facciamo un po' di ipotesi se io le quattro stagioni la metto in quarta posizione comunque non lo posso mettere però se io lo mettessi in quarta posizione quattro stagioni pizza napoletana non potrebbe stare anche questa in quarta posizione perché la pizza napoletana è alla sinistra di quella che ha scelto la quattro stagioni dovrei metterla in terza ma se io la mettessi in terza andrei a contraddire l'informazione che mi dice che la pizza napoletana è solo prima o quarta e quindi in questo modo io capisco che certamente questa pizza napoletana non può essere al quarto non può essere al quarto posto ci siete spero di averli fatto capire questo è un passaggio che ad alcuni sfugge se la pizza napoletana certamente non è al quarto posto dove la devo mettere questa pizza napoletana la devo mettere in prima posizione quindi adesso inizio ad avere delle informazioni di certezza quindi pizza napoletana in quarta in quarta posizione sempre della pizza napoletana dicevo so che è quella che è all'immediata sinistra di quella che ha scelto la pizza quattro stagioni quindi se pizza napoletana è al posto uno pizza quattro stagioni adesso è al posto due ma cosa abbiamo detto della pizza quattro stagioni sappiamo che la pizza quattro stagioni lo dicevamo all'inizio chi ha preso la pizza quattro stagioni è seduta a sinistra rispetto a Marta quindi quattro stagioni è a sinistra rispetto a Marta quindi vuol dire che Marta la devo mettere in terza posizione in modo tale che la quattro stagioni a questo punto va in in prima cos'altro so poi sappiamo che l'amica più giovane e vabbè è Francesca che non ha scelto la pizza quattro vabbè questo mi aiuta relativamente quindi rileggendo adesso le informazioni quindi la ragazza che ho ordinato la pizza malgherita allora dobbiamo ancora mettere la pizza malgherita in merito alla pizza malgherita sapevamo che è seduta a destra di Elena che significa che io devo avere pizza malgherita e e questa deve essere a destra di Elena cioè Elena deve essere in una posizione diciamo antecedente quindi a questo punto cerchiamo di capire questa pizza malgherita io dove la posso dove la posso mettere io la pizza malgherita la posso mettere o in terza posizione qui perché mi è rimasta solamente la terza posizione o in quarta posizione ma se io la pizza malgherita la mettessi in quarta posizione siccome poi a destra siccome poi alla sua sinistra cioè qui ci deve essere Elena io alla sinistra avrei già messo Marta quindi non posso mettere anche Elena spero che anche questo passaggio vi sia chiaro quindi capisco che la pizza malgherita non posso metterla in quarta e mi resta solamente la terza posizione e quindi pizza malgherita in terza posizione a questo punto qual è l'unica pizza che ancora non ho messo l'unica pizza che ancora non ho messo credo sia quella prosciutto e funghi e già la mettiamo pizza prosciutto e funghi e quindi tutte quante le pizze le abbiamo messe sappiamo che Francesca non ha scelto allora dobbiamo mettere Elena così completiamo l'informazione precedente quindi la ragazza che ha ordinato la pizza malgherita è seduta a destra di Elena quindi se pizza malgherita è a destra di Elena vuol dire che Elena devo metterla in seconda posizione poi sapevo che Alice cioè chi aveva preso la pizza napoletana stava qui dove era che la pizza napoletana non è stata presa da Alice quindi in prima posizione io ho messo pizza napoletana quindi Alice non posso mettere Alice vuol dire che Alice la devo mettere in quarta posizione e in prima posizione mi resta solamente da mettere Francesca e quindi in questo modo ho completato tutti gli abbinamenti so che Francesca ha preso la pizza napoletana so che Elena ha preso la quattro stagioni Marta ha preso la pizza malgherita e l'ultima Alice ha preso la pizza prosciutto e funghi la domanda cosa chiede quale dalle quattro amiche ha scelto la pizza prosciutto e funghi e Alice quindi io direi la risposta quindi spero che cara amica mia di Palermo ma che non vive a Palermo ma non diamo altre indicazioni spero di averte dato delle indicazioni insomma su come ragionare su questo quiz come vedi questo era uno di quei quiz in cui non andava bene diciamo impostare la tabella così come magari l'abbiamo impostata in altri casi perché è proprio diverso la tipologia di abbinamenti che vanno 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 eseguiti perché c'erano questi abbinamenti di tipo sinistra-destra quello che sta a sinistra alla sua destra c'è a quell'altro eccetera in questo caso io preferisco agire con lo schema tipo insomma lo schema che ti ho proposto e spero mi sono un po' soffermato su alcuni passaggi dedicati spero insomma di averti fatto capire come rispondere in base a quei passaggi delicati in realtà di questi quiz ne stanno assegnando diversi ad esempio in concorsi gestiti dalla Select si stanno capitando alcune tipologie di quiz tipo questi che sono un po' diverse rispetto ai quiz assegnati dalla Merito e in quel caso impostare la tabella come alcuni hanno imparato a fare con i quiz Merito è assolutamente deludente e pertente come tipo di ragionamento qui bisogna essere proprio bravi nel saper ordinare le informazioni io come ho altre ma non c'ho la faremo mai non ce la faremo mai allora mi piaceva finire vediamo un po' mi piaceva finire dandovi dandovi allora intanto su questi quiz di relazione di ordine di grandezza poi ci ritorno la settimana prossima perché c'era un quiz interessante però c'era una domanda che mi è giunta anzi fate così così poi la prossima settimana intanto ci ragionate un follower anche qui non faccio nomi perché non vorrei risultare indelicato però delle tante domande che mi sono state poste mi è stata chiesta questa domanda sui verni e gli stagni eccetera provate a fare uno screenshot fate una foto con il vostro cellulare eccetera e poi la prossima volta parliamo di questo quiz perché alcuni non sono riusciti a risolverlo e qualcuno aveva insomma delle indicazioni differenti proprio in termini di risposta e non tentate alla non cedete alla tentazione di andare a ricercare il quiz online provateci da soli tanto poi avremo modo di commentarlo vi dico solamente che all'esempio questa è una di quelle tipologie di domande che è stata utilizzata in Italia in alcuni test di ammissione in modo particolare ed è come proprio impostazione stata ripresa da tradizioni di quiz che vengono assegnate all'estero su domande che sono impostate più proprio sul ragionamento più che sull'applicazione di regole di formule varie avete visto come in passato in Italia hanno assegnato tanti quiz dove dando il quiz e c'è la formuletta applico la formula della media aritmetica risolvo il quiz applico le equazioni di primo grado risolvo il quiz eccetera in realtà all'estero a volte vengono assegnate queste domande in cui non è tanto importante saper impostare l'equazione o la proporzione o la media aritmetica eccetera ma in cui bisogna proprio saper ragionare che è un altro paio di maniche ed è questo poi il motivo per cui quei ragazzi così giuro facendo un riferimento alle informazioni dati in precedenza quei ragazzi che impostano la loro preparazione solamente sulle banche dati che continuano a chiedere c'è la banca dati c'è la banca dati cose del genere sono perché lo chiedete dicevo perché avete proprio questa impostazione che è legata all'imparare memoria quando poi assegnano queste domande che non sono difficilissime chi è abituato a imparare memoria trova queste domande un ostacolo insormontabile vi assicuro che non sono ostacoli insormontabili però adesso darvi altre informazioni se ci sarà tempo la prossima settimana anzi un passaggio lo do però non sono ostacoli insormontabili se allenate il vostro cervello a ragionare a formulare una serie di ragionamenti come quelli che tra un po' farò con la redazione prima però di chiedere alla redazione se è arrivata qualche domanda proprio in extremis ma dite redazione c'è qualche domanda in extremis a chi dare una risposta sono arrivate delle domande possibile che per la prova scritta di alcuni concorsi vista la situazione epidemica anziché elaborati pareri o temi possano esserci prove con risposte multiple no cioè oddio no da questo punto di vista non si prevedono particolari novità non solo vi dico che vi ho detto guardate mesi fa si diceva che i concorsi sarebbero stati fatti chissà quando eccetera 2022 2023 non si fanno più concorsi non ci sono soldi per fare concorsi vi dico la prossima volta io spero di mostrarvi proprio questi documenti ufficiali dal quale vi farò vedere come in periodo periodo pandemico hanno svolto una serie di prove con prove proprio a tema non prove a quiz le hanno svolte e hanno assegnato migliaia non uno due tre hanno assegnato migliaia di posti di lavoro voi dite come certo non migliaia un unico ente migliaia diversi enti hanno assegnato migliaia di posti di lavoro e molte di queste prove erano prove a tema quindi è già accaduto è già accaduto nei mesi scorsi lo hanno fatto e quindi non necessariamente questo ha significato una modifica una modifica nell'impostazione delle prove certo può capitare che qualche ente possa decidere di fare di impostare delle prove differenti però solitamente almeno per i funzionari aspettatevi per il momento salvo poi nuove indicazioni che verranno dal governo ma per il momento le prove quelle a tema che generalmente vengono fatte per i funzionari o per i dirigenti dovrebbero essere confermate con le eccezioni di qualche concorso come agenzia dall'entrato o inps dove le prove scritte sono prove a quiz basta ne è arrivata un'altra facciamo l'ultima dopo le altre cerchiamo di fare un po' di ricognizione perché ne sono arrivate veramente tante ho letto ieri che il concorso ordinario docenti dovrebbe partire a maggio-giugno cosa ne pensa? allora sullo concorso ordinario docenti mi stanno arrivando molte molte domande molti chiaramenti in realtà io vi dico non ci sono documenti ufficiali su questo qui adesso io non so voi da dove abbiate letto questa notizia perché ieri mi saranno arrivate almeno una decina di domande di richieste ieri e avanti ieri mi sono arrivate almeno dieci domande di ulteriori chiarimenti ma più di dieci perché poi ad alcuni non sono riuscito a rispondere la sensazione che io allora vi dico le informazioni che a me risultano sono che del concorso docenti ci sono stati degli incontri tra il ministro tra Lazzolina i sindacati eccetera e in questi incontri si è parlato di quando avviare il concorso ordinario docenti e ci sono state un po' di ipotesi che sono state fatte e di queste ipotesi so anche che per il momento si sta procedendo con una ricognizione delle aule dove svolgere le prove concorsuali così come è stato fatto in passato già già ad agosto settembre scorso c'era stata una ricognizione delle aule diciamo delle aule di informatica nelle scuole quindi vi dico da qualche giorno come atto ufficiale c'è questa nuova ricognizione delle aule cioè il ministero ha chiesto alle scuole le aule di informatica che ci avete nel liceo Pinco Pallo di Busto Arsizio faccio un esempio quante postazioni informatiche ha come sono disposte queste postazioni informatiche ci sono le distanze tra un computer e l'altro quanto sono distanti eccetera quindi questa è la ricognizione che sta facendo e che è un passaggio propedeutico prima poi di avviare le prove per proprio il concorso ordinario che riguarderà una platea di concorrenti più ampia rispetto alla platea dei concorrenti che stanno affrontando il concorso straordinario che affronteranno diciamo il concorso straordinario tra alcuni giorni dopo dopo metà febbraio quindi come atto ufficiale al momento c'è questo ora quanto tempo poi passerà dalla ricognizione che comunque si completerà nel mese di febbraio all'inizio delle prove del concorso ordinario al momento non lo sappiamo non è stata presa una decisione definitiva come orientamento il ministro Azzolina ma è un ministro uscente magari il nuovo ministro potrebbe tranquillamente cambiare le carte in tavola il ministro uscente Azzolina che continuerà a presiedere gli incontri di questo tipo fino a quando non sarà nominato il nuovo governo cioè per ancora pare probabilmente una decina di giorni salvo colpi di scena ha detto che per il momento come orientamento una buona ipotesi sarebbe quella di svolgere non a maggio il concorso ordinario ma tra giugno e luglio considerando che fino ancora a maggio considerando che sarà necessario come dire riferire personale che poi possa fungere anche da commissario d'aula e quindi possa presiedere allo svolgimento delle operazioni controllare i candidati eccetera ha detto io preferisco secondo me sarebbe meglio non svolgere tra aprile e maggio il concorso ordinario visto che riguarderà tante scuole perché andiamo così ad appesantire la situazione delle scuole eccetera preferisco che si svolgano queste prove tra giugno e luglio quando al di là degli esami di stato ma che comunque ricorderanno non tutto quanto il personale ATA quando diciamo ci sarà meno personale impegnato in operazioni ordinarie della scuola e quindi ci saranno sarà più facile riferire il personale che potrà poi cimentarsi che potrà dedicarsi senza costi aggiuntivi in termini cioè sfruttando proprio i dipendenti del ministero dell'istruzione quindi sarà più facile riferire il personale che si possa occupare dello svolgimento del concorso quindi questo è quello che io so quindi per il momento c'è un'indicazione il ministro Zollina nell'incontro con i sindacati adesso non so se è stato proposto dalla Zollina o dai sindacati sarebbe venuta fuori questa idea meglio fare il concorso ordinario a giugno o luglio ma da quanto mi risulta non c'è un'indicazione precisa cioè l'indicazione precisa la decisione definitiva sarà presa dal nuovo ministro dell'istruzione che al momento non sappiamo chi possa essere però probabilmente per una decina di giorni sapremo quindi dieci giorni saremo oggi cos'è? Dieci febbraio tre dieci giorni sarà venti febbraio quindi forse fine febbraio diciamo secondo me a marzo sapremo quando inizio marzo metà marzo sapremo avremo una bozza quanto meno avremo delle indicazioni un po' più precise su quando si svolgerà il concorso ordinario adesso sono delle indiscrezioni che circolano certezze al momento non ce ne sono il nuovo ministro poi deciderà se adesso c'è questo che è un orientamento quando l'orientamento diventerà ufficiale lo valuteremo spero di essere stato chiaro quindi adesso l'unica cosa ufficiale è che il ministero sta comunque procedendo con la ricognizione delle aule dove poi svolgere i concorsi a cattedra agli altri profili che ci saranno quindi l'ordinario il concorso per i docenti di religione e lo straordinario per l'abilitazione perfetto la ringrazio intanto della disponibilità e saluto tutti i partecipanti abbiamo raccolto tutte le domande adesso le rivedremo un attimo e le proporremo nella prossima diretta di mercoledì sempre dalle 10 alle 11 go to webinar l'iscrizione è sempre la stessa sì io ringrazio anche i partecipanti guardate state diventando tanti tanto che la casa editrice ha deciso di ampliare il limite prima c'era un limite a 1000 partecipanti abbiamo deciso di portare il limite a 3000 partecipanti quindi io vi ringrazio per l'attenzione con cui ci state seguendo voglio dire che questi incontri stanno piacendo molto però come diceva prima la dottoressa Argelli la responsabile editoriale dell'area concorsi comunque anche chi la mattina dovesse essere impegnato considerate potrà poi seguire l'incontro con la registrazione che sarà pubblicata tra oggi pomeriggio e domani mattina in base a quando riusciranno a farlo i tecnici sarà pubblicata sul canale youtube del gruppo Maggioli quindi dovete andare al canale youtube del gruppo Maggioli potrete rivedere alcuni passaggi alcune informazioni che ho fornito oppure le spiegazioni di alcuni quiz avete visto come ho fornito spiegazioni anche di alcuni quiz un po' meno conosciuti un po' meno let mi chiedevano delle spiegazioni oltre su questo quiz che vi ho mostrato che vi ho detto ha un po' un'impostazione un po' più international mi chiedono anche delle spiegazioni su quiz di logica deduttiva la prossima volta eventualmente cominciamo dai quiz così poi il tempo che avanza lo dedichiamo alle informazioni sono io che ringrazio la dottoressa Lottici per l'ottima assistenza il dottor Bianchini per l'assistenza tecnica la dottoressa Ragelli e a nome poi insomma di tutta la dirigenza della Maggioli che hanno consentito lo svolgimento di questo incontro grazie e buono studio e alla prossima grazie a tutti